vai grazie ancora dove iniziare a giocare non ha giocato nessuno a schiacciare no vabbè prima io ho giocato il turicano tu arrivi in modo gozzovigliato no sta brutta ecco posta non ti dico cosa ho mangiato il turicano c'era perché so che non ti piace mi schiacciate pesce pesce immaginavo schiacciato sì sì no rispondevo sì sì alex ma comunque se sì la risposta è la stessa allora vai partiamo con questi sparatutti laterali aspetta che ci sta il discliner allora aspetta aspetta tu vedi proprio seguendo quello che appena spiegato tu ricca l'importanza del lavoro che c'è dietro eccetera io non so neanche quale cazzo è il tema della serata di questa sera quindi sono impreparatissimo guarda scritto sul titolo della live ci sono gli sparatutto arcade laterali bello bello discliner ricordiamo che alla fine verrà pubblicata la classifica dei vostri voti senza i primi tre potrete vincere punti canale votando quello che secondo voi tra i primi tre ha ottenuto le votazioni più alte durante la live quindi si vince indovinando il gioco che ha preso più voti durante la live grazie per l'attenzione grazie grazie mille allora primo titolo se partimo sempre dalle lettere a dalle lettere abc oggi partiamo dalla z o melone madonna mia melo grazie mille 5 non ha dati grande melo applausi applausi allora grazie melo infatti l'ha scritto prima sono contento che ho conosciuto andrea adesso piano piano conoscerò anche gli altri magari io d'aspetto a roma anche va la merda no 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 allora 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 madonna santa allora andrew ti facciamo fare della toa plan dell'ottantanove zero wing bello bello turicano non so se lo conosci vatti a vedere su pc engine terra cresta 2 sì sì ce l'ho preso da steam ah ok c'è nel senso che è uscito un remake su steam sì molto bello ma zucca e melo bisogna ammenagli meno fa gli farò porca miseria guarda philpol grande philpol grandissimo grazie pure gold nati 5 grande gold grande gold grande zucca mamma mia vedi che poi noi non facciamo vedere tette e culi fighe niente quindi sono tutti sudati e verità ma pensa se li facessimo vedere pensa a che livelli arriveremmo noi avendoci visto un po tutti non so se beneficeremo molto di questa cosa a livello di questa cosa a livello no 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 ma no ma non noi maschietti no no io intendo di proprio ciccia vera a quello ci penso io e a quello ci penso io e allora grazie ragazzi addirittura già a livello dresimo dai regà grandissimi allora andiamo a vedere questo toplan 89 zero wings comunque è incredibile è incredibile quando io ho detto pensa se facessimo vedere tette e culi e subito tutti quanti hanno capito di noi maschietti no regà tette e culi femminili ma sicuramente vorrebbero in realtà era più un desiderio vabbè non credo che possiamo esaudire questo desiderio almeno io non lo farò nooo il crap grazie il crap oh crap crap ti piace abbonamenti grande grazie pure a club mamma mia regà grazie raga troppo buoni un secondo dimmi che ho detto che ho detto che ho detto di colpe bravo gold esatto questo pure anche anche ste piccole cose no sono comunque delle cose che vi fanno sentire un pochino come se stessimo a casa no tutti passi è il classico momento in cui magari si sta dentro la camera del del parente del cugino del fratello che c'ha magari la console e vedete in lontananza che c'è sta il corridoio quei parenti che passano davanti e che si dicono cose che a voi arrivano ma arrivano più o meno perché comunque sta da guardare i videogiochi è tutto quanto così regà è un è un viverla sta situazione è bello io me ci trovo veramente bene spero pure voi arrivederci buonanotte sono bella sono concentratissimo scusa ci sto capendo un cazzo però perché allora forse l'unico problema di sto gioco i pod che ti confondono un po' perché comunque non ma sai cosa è che tu ma fatto fino adesso tutti i potenziamenti compreso sono stati semplicemente un cambio di tipologia di sparo ma non un potenziamento ecco questo è un potenziamento in realtà non un potenziamento vero e proprio allora occhio perché se non mi ricordo male se non mi ricordo male Andeleia tu puoi sparare quella palletta che c'hai lì davanti e mi pare che prendi i nemici puoi rapire i nemici no invece no no è una bomba una cazzata ho detto una cazzata l'ho sparata subito fidandomi ciecamente ho detto tanto tu Rican li conosci bene di sparacchini per cui dubbi ah tra l'altro c'è il sound bank che è lo stesso di allora grazie Tato ti chiama grazie a Lone grazie mille grazie a Brab i poveri ti confondono grazie a me meno un po' meno un anti 3 niente eh io da un mio non guardando il mio sprite grazie a me perché mi concentro solo sugli spari dei nemici eh avendone 3 mi manda un po' in confusione effettivamente grazie pure a Kla stai per battere stai per battere il tuo record mamma mia ragazzi che c'è qui dietro quanta qualità anche di questo è uscito il 2 anche di Zero Wing è uscito il 2 sempre su Steam guarda signor che cazzo è allora intanto siamo a livello number 6 eh porca grazie Gold grazie Gold ah nei boss però ti mantiene l'arma ah lì dice sempre stai per battere il tuo record dove dice yes io ho capito ma cosa grazie Ash no no lì ti dice sempre stai per battere il tuo record ma lì ti dice che grazie Ash ma io vedo livello 3 completato ma sei impallata la striscia ah aggiorna aggiorna ok 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 oh grazie Zuc ecco tu ecco in un altro grande Zuc grazie Zuc ma non mi s'aggiorna perché io qua vedo 68% stai per battere il tuo no no ho dovuto proprio no 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 ho dovuto chiudere il browser e riaprirlo e riaprirlo ragazzi ogni tanto ci fai si vabbè ma oggi ragazzi sta da grazie Bruce grazie Bivit per l'appuntamento grazie Cla oggi siamo stati dal condorone madonna ma cosa veramente veramente grazie raga eh io lo stavo mangiando purtroppo ho finito tardissimo no ma la cosa surreale no è che praticamente tutti ci stava praticamente mezza Australia mezza Melbourne che stava a fare gli auguri dei compleanno Andreia no perché là comunque sia essendo già scavallata la mezzanotte era già il compleanno suo grazie Lai quindi praticamente quello che bestemmiava quello che bestemmiava gli dedicava le bestemmie cioè una cosa e lui non c'era la cosa surreale è che lui non c'era capisci cioè che meraviglia ragazzi grande Angel Twitch media che seguo dal 5 gennaio 2020 sono 4 anni esatti grandi bravo Angel grazie allora votiamo intanto per Zero Wing ho capito come funzionano i power up allora io a sto gioco darei un 8 e mezzo ragazzi non so voi ma secondo me questo è di grande qualità tra l'altro Neo Geo se non sbaglio no non la fai vedi che non me sbagliavo non può essere Neo Geo perché 89 Neo Geo 90 però io questo però lo puoi fare a prescindere grazie mille fratello invece no beh tu questa cosa tenendo col secondo tasto lo fai che aspiri eh però io mi ricordo che potevi proprio prenderlo un nemico invece no il gioco secondo me è tratta da un giallo esatto la musica la musica è tratta da un film di Gicciolina oh 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 eh ma non mi ricordo che cazzo te sparo è questo adesso pensavo non più ricordavi il titolo del film di Gicciolina carne bollente cos'era verde Gicciolina no Turri è un altro gioco lo dici tu porca merda ah ok eh cose blaze on quello che dico io che caspita dico blaze on blaze on blaze on blaze on vabbè io ho sempre detto blaze on grazie sui brig blaze on grazie blaze on grande brighello grazie ai like ah Starman è una merda il rosso almeno si non è un granché allora Zook per me segni questo un sette e mezzo perché? boh perché non mi pare tanto differente da tanti altri giochi via beh vabbè è uno sparatutto orizzontale eh vabbè eh vabbè cioè le differenze quante ne vuoi trovare il genere è quello a me questo qua piace un sacco io gli do un otto e mezzo grazie a Bruce pure per i beat ecco matando super matandico ma rischio che è arrivato matando vi posso pure saluto a tutti arrivederci buonanotte tanto modice andiamo avanti andiamo avanti via eh niente si è fatto prendere eh questo mi incastra siamo fatto a posto ciao tu ricano buonanotte ammazza però eh che stronzolo io mica ti avrei detto a sta cosa o forse sì no forse sì lì dice sempre stai per battere il tuo record esatto invece niente ciao pable grazie mille grande zucca grazie zucca sta prende i voti stasera eh sì grande zucca però non si vuole fa prete no 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 specificavano perché uno si sta prendendo i voti no 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 melone mi pare che ci stava a pensare a sta cosa da prendere i voti che diventa prete mi fa sto pensando ad entrare in seminario esatto esatto io gli ho detto un attimo ripensaci perché dopo io come può vanno in telefono e dite porco capito diventa poi difficoltura mamma mia ah zucca no dice non penso ok 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 va bene questo ci rassicura molto oh eccolo abruzzo oh bella grazie abruzzo per l'abbonamento regalo ma abruzzo sta a fare anche presto 9.50 eh sì mi sta a desidero 9.50 sì sì il melo mi ha detto ingaggerebbe un sacco prendere i voti vorrei andare al vaticano beh oh se vieni qua a Roma io so contento ti vengo pure a trovare non è un problema tanto me fanno entrambi al vaticano c'ho il permessino c'è il pass c'è il pass quel pass sono in pausa veloce ciao brù buon lavoro quando cazzo devi passare in mezzo grande brù siamo vicinissimi al record chi dice sempre che siamo vicini non lo so ma secondo me abbiamo battuto il problema è che lui sbrocca perché non gliela fa sta indietro così c'è anche vana questa aspirazione eh assolutamente sì vana soprattutto pensa che ci sono delle leggende che narrano che sia stato il vana tramite delle telefonate al melo a dire guarda melo prendi i voti perché comunque sia una cosa buona e giusta e l'ha anche benedetto esatto basta da malati ciao c'è basta ci sta maledetto è buona star ma che ha preso comunque questo è perché va a caccia del nemico sì e tutte a te per mettere controlla soltanto i proiettili che ti arrivano addosso grazie mandando vai non ti preoccupare ma fatica ma fatica vai bru tanto ti aspettiamo dopo andò vai andò vai andò scappi allora grazie bra grazie per abbonamento allora grande bra bella bra il prossimo che facciamo fare Andrea lui ha già visto ma non ti fa fa quello esatto di casa Irem sempre dell'89 andiamo a fare x multiply esatto allora questo questo è un tentativo secondo me mal riuscito dell'Irem di replicare il successo di airtype questo questo gioco arriva prima di airtype lio e dopo airtype 2 secondo me non ci sono riusciti hanno studiato un sistema di power up diverso da quello di airtype non ci sono i pod ma c'hai praticamente delle 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 estensioni dell'astronave una specie di braccia organiche la cosa bella di sto gioco è che è totalmente organico cioè non ci sta niente di di meccanico è questa cosa insomma se vi piace il genere potrebbe essere interessante ultima cosa questo gioco esiste anche su playstation 1 si è vero e fa parte di una compilation dove sopra ci sta questo e in altro forse proprio The Deep The Deep esatto del coso del sommergibile del sommergibile si esattamente non è un The Deep secondo me questo non ah è finito la hype train aspetta perché cazzo è morto mi sai che siamo no scusate zitto zitto non so cosa è successo grazie ragazzi porca merda lo spiego io te lo spiego io ti vuoi ricominciare si no perché ho fatto condividi la hype train scusate no ma non è morto per colpa tua è morto perché è incapace vai tranquillo non è per colpa tua esatto esatto basta però però questo gioco qua praticamente c'hai queste screscenze che te partono dall'astronave che ti proteggono dai colpi quindi li puoi usare come se fossero degli scudi dei gusci una specie di guscio grande me grazie grazie a tutti ciao birichino viola grazie a diritto vai tu però che caspita eh il fondo ciao birichino mi dici ancora condividi non riesco non riesco no 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 stasera no stasera no solo se no no stasera no assolutamente non si può non si può stasera no poi tra l'altro ho promesso che farò una cosa per Andreia stasera quindi va bene va bene tutto esatto hai capito a che mi riferisco chissà 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 spazi per me no 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 oddio se vuoi io posso pure fare non so quanto ti possa piacere quello che vedrai ma grazie birichino grazie mille grande birichino non fare il birichino stasera mi sentire sarà pro nintendo ma no di solito no no lui non è mai pro nintendo io sono pro dai giochi quindi le schermaglie che abbiamo io e lui sulla nintendo è semplicemente perché io sono anti nintendo ma e lui non è non è un fanboy cioè nel senso io mi diverto a fare sta gag ma cioè alla fine no lui è assolutamente tranquillo certo se è nintendo è meglio no che probabilmente se è nintendo quindi no se è nintendo è meglio mi aspetto una certa qualità diciamo magari posso dire che su gioco ho detto non è una cosa così insomma sembra meglio dai posso dirlo sta brutto un piglia pesca a piene mani da diversi altri titoli ovviamente il primis quello che ho detto prima di airem però boh c'è anche queste cose strettoglie no sembra vabbè strettoglie è il minimo dei problemi è proprio che non funziona secondo me cioè non lo so boh ma poi graficamente non è un granché ciao ho visto un drago così da nulla però i mostri sono belli cosa l'ha preso è uno sparo a sparo allora intanto vogliamo che prima ci siamo trattenuti in sacco su quell'altro questo si chiama x multiply o multiply multiply ma per me è un 7 questo non è più non mi sento da io è più onestamente boh anche perché a me non piace è poco ha capito vedi c'è i suoi che esplodono anche troppo e io adesso ho capito c'è capito il colpo rosso in realtà esplode e ti io gli do un 6 e mezzo non voglio essere 7 7 7 per me è un 7 per me è un 7 secondo me se capisci bene la dinamica di queste braccia no la dottor octopus te lo gusti si si non è niente di più di tanta altra roba non è neanche meno nel senso non è mica un gioco brutto no ma non è è anni luce dietro airtype ma fa che c'è non c'è poco paragonare c'è delle cose che poi ti ho studiato Andrew 7 allora Andrea 7 allora ah il meno m'ha scritto e cazzo ma Andrea non sa proprio sari voti esatto ma come mai perché meno non è del mestiere non è del mestiere non è del mestiere scherzo ovviamente scherzo io quando quando posso dare 10 intendo a dare 9 e mezzo questa è una gag è una gag che fanno sempre una gag una gag bang esatto esatto quando cioè io do a 9 e mezzo gli altri vogliono che io di a 10 si incazzano come delle bisce non è che do 5 no do 9 e mezzo che più o meno diciamo allora ex bitchwise dice posso chiedere al mister Andrew di che anno è anch'io faccio gli anni alla Befana e sono nel 76 io sono 80 come mister Andrea 1980 gli anni no gli anni sono di 100 quindi mi sono iscritto a scuola guida stamattina ho fatto un foglio rosa e mi terrà fitto ragionato su come vanno le guide mi raccomando macchina piccola perché stai prendendo questa macchina mi raccomando la macchinetta piccola va di Turri facciamo uno con mister Andrew in due si va il Turri aspetta che attacco l'archedo sticco minaccia ok guarda il 14 ne faccio 53 Uffetto eh sì lo so l'avevi detto e che sarà mai si è sentito? no però mi sa che ce lo passo io allora gli facciamo fare in the war in the war questo gioco di casa Capcom che è basato sull'anime area ottantot oh bello e facciamo U-Helm Squadron bello molto bello sì 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 seguito poi da Carrier Carrier Airwing Airwing US Navy in giapponese questo c'è una bella conversione sul superfan questo gioco sì sì ciao Kyo ciao Kyo hanno provato pure a fare una conversione su amica ma vabbè un frame ogni 40 minuti eh sì però si gioca in due Capcom invece il Super Nintendo è molto molto bene come conversione ma si gioca da soli purtroppo sì si gioca solo a soli ma sono da soli sono da soli l'obiettivo di quest'anno che mi sono dato voglio finire il full set dei giochi Capcom per Super NES non te ho amato anzi per farmi eh ok sì adesso sì ok 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 Bob Beb 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 Ingenti spese Start e coin and coin niente qui solo 9 credit niente se può fare e vabbè accontentiamoci accontentiamo accontentiamo dai è che l'amica si gioca in due così si vestibbia in due per quanto scatta mamma mia veramente che peccato però un'occasione sprecatissima secondo me mamma mia bella giocabilità che c'è questo è morbido sto gioco è molto bello non c'è stato due card po cani in cia è perché non mi spara più non ti spara più perché sparavute super l'altro tasto dai che cazzo ha sparato tutte le super davvero le si va vai a fare il culo terra so far nulla no sulla sorta non mi ricordo di potenziamenti lo sai come sono così non vale e se qualcuno sta pensando ma questo lo abbiamo fatto sì e abbiamo già fatto quelli che faremo stasera al 90 80 per cento 90 per cento abbiamo fatto tutti però questa è una serata dedicata agli sparatutto laterali o orizzontali quindi prima di dire guarda che l'hiamo fatto sì ma poi l'hiamo fatto tutti io c'è di arcadio su quelli lega non è che ne potevamo un vento a denoglia esatto su facciamo un disclaimer che si stai a maglia un altro rone torino il botto rone raga qualche figlio di la merda dai volveri anche eri e dai eri prime risate ragazzi con le ms x ma lo peccato che non c'erano quelli altri due giochi e lo voglio capire perché non c'è su quella non sono fatti strano ma potersi che non hanno lampati anche ma però stranamente quando c'è qualcosa che manca ci mettono il gioco poi gli scrive non funziona invece in quel caso non c'è scritto proprio niente non c'è proprio a tutti ripresi è tuttavia è una partita da dietro questo bastardissimi si occhio perché non c'è il zero energia 3 prendi idea la pia e no sto anche evitando più no 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 una ho presa io stranamente ma non so l'energia quella erano armi energia sono altre cose e adesso mette gli dati no allora il nome non è che si no 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 stavo di rion di gesù mirata carrier e il wing non è che somiglia il primo capitolo questo è esatto che erano il primo capitolo del sequel dello spin off esatto casino occhio cane si è buonasera 30 secondi fa eri ho detto fra un po di ranchieri arriva inesorabile inesorabile io vorrei ricordare che ci sono dei fantasmi se autofantasmi degli asserano fantasmi l'auto petto da signor matan almeno allora vogliamo intanto ragazzi per you and squadron bello per me è un 8 questo ragazzo assolutamente meno di otto di si può dare zucca mi metti mi metti un 8 mi metti è arrivato anche lì abile oratore con i suoi frase di cicerone faccia grid ciao del marito c'è un punto in cui scompare lo sprite è vabbè però non so se è un glice oppure se il fatto che lo streaming va a 60 frame è un semplice perde proprio abriga il tanto per di si vede proprio che finisce in un quadrato e chi vince fondo che si mangia salda gratuito sprite ok ma sta sperando tutte le super ma sono ricoglionito preparare con le due e due volte per la tua sete cioè lì di la chiara fresca sprite scritto pitt 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 questi mesi che non si vanno distruggia ci passo in mezzo la famosa pseudo parla ai mi spieno è in pieno e mangiò saluti e bassi in mezzo molto dai 6 mezzo lo potevi di amore si vogliamo per meron squadronire che è stato sempre in mezzo alle pagne e soprattutto alle pompe è quello ma ma niente però ma no per giochillo però guarda la frase del timone perché parlando di il timone di brua no ma qua mi dice il timone di poppa il timone di poppa io non lo so che esiste e c'ha le poppa pera 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 saluto ma questa è tanta roba si guarda se mora ai votiamo ancora chi non l'ha fatto ragazzi per io e quello che torno indietro ne si è a porca sozza giorni in dieci c'è mazza quanto è devo far buttare giù i cettoni qua ma ora fai esattamente fai il punto esclamativo senti ha fatto è la vita 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 le bella è la vita 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 il tenino właśnie oh dai eh vai ne andiamo a band sì io vorrei chiedere contente riscaldamente di un trasho in vadi, state tutti a manià io non so sento solo gente non si può ma non posso allora vediamo secondo per Turicano, volevo farne uno che non conosco dai facciamo questo della Fico allora Fico Poara Enterprises License Fico Ara 89 e questo è Twin il nome è il cognome cognome Turicano è Pop and Twinbee Rainbow Bell è il platform che dici tu bello conosco mi è venuto in mente il titolo l'altro giorno invece ha ricordato che te lo tutte le volte lo dici ma non ci ricordiamo mai come cazzo si chiama quello è bellissimo quello è l'età però purtroppo no che è perché non si ricorda le robe allora raga questo qua è uno sparatutto orizzontale ma in realtà l'inquadratura è verticale esatto poi spiegami bene Marti allora in pratica se non si lascia lo stimolo potete praticamente giocare con uno sparatutto verticale perché la realtà è verticale la visuale è verticale no? però in realtà in realtà va in orizzontale ma non mi ha detto perché perché fa schifo veramente brutto sto gioco che te stai a mangiare? beh ragazzi due patativa bra ma adesso ho finito basta sai che in realtà c'è un minimo di prospettiva sull'aereo non è sì è vero lo sto a vedere infatti la pro e c'è sull'aereo sulle cose mamma mia è orrendo sto gioco scusate berrò qualcosa per allora posso dire che io odio ufficialmente i giochi in cui bisogna sparare agli oggetti che stanno a terra è una cosa è una meccanica e un sopporto e che si spara con tutti i due tasti contemporaneamente sempre è in realtà qua quando io sparo con l'altro ah non mi sai sparare agli occhi a me no ah allora è l'inculata sì eh capito è un cos'è? una è una fregatura è una fregatura una fregatura gioco bonus gioco bonus non male grazie veramente brutto veramente brutto regà ah di vuol dire che questo pomeriggio mi sono fatto un piccolissimo taglio a un dito della mano e ovviamente questa sera mi è venuta la splendida idea di andare a mangiare le patatine salate ah mi dai molte fan male e adesso mi brucia come se mi fossero fuoco al dito certo allora questo sinceramente che non conosco mi sono anche grattato il culo con quello stesso dito che è schifo della Konami Konami 91 e il gioco in questione è Xexex Xexex cos'è 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 Xexex cosa 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 Xexex ma è proprio quello lo puoi leggere sia anche all'incontrario è uguale Xexex e come all'incontrario Xexex ma invece il normale è Xexex Xexex a fare il genere è palindromo è palindromo è palindromo è palindromo ma no è più modente ah beh palindromo esatto l'epadra ma ti hai mai detto che su questo canale si fa palindromi molti palindromi questa sera è tarto attenzione ma livella ecco inno si è molto anime molto attenzione palindromid esatto cosa 27 gradi di er 27 gradi eh ma c'è 2 più 7 viene del ZUVGA 9 ma tutto c'è un bello cos'è sta roba ma è un palindromo ma è un viaggio psichedelico è tutto molto bello ma da fra tre minuti ti viene un attacco epilettico esatto voglio dire ma è più o meno lo stesso effetto che si ha leccando un rosco canale america insomma lo trovo più un esercizio di stile che funzionale al gioco a me mi ricordo non è male sai quel colore verde mi ricordo un prodotto per la pulizia del water un gel che aveva lo stesso l'ha scritto l'ha scritto passerotto passerotto sto vedendo vedendo le stesse cose di quando ho provato i funghetti veramente oh grande Nicotto grazie all'abbonamento ciao Nicotto grande super Nicotto continuo veramente è un parico psicadelica veramente così è molto più figo così con questo questo fondo un po' meglio rispetto a questo adesso che c'è solamente un lato perché si è fatto caso i due lati verdi andavano una direzione verso di te allontanava ma la vita sola ciao ciao purtroppo Marchetto si ha solo una vita abbiamo solo una vita nella vita vada vada siamo gatti non siamo gatti ah no ma perché c'è l'energia ecco perché ora ora non ho capito portati da lì mamma mia si muore grumi che purulenti che crescono sopra dei cristalli cosa mi vogliono dire che siamo in un mondo alieno in cui il genova è basato di silicio credo di sì allora allora per cazzo era una domanda serie è una domanda seria giusto? non lo so era seria però poteva sembrare una super cazzo in realtà c'era un fondo di verità allora c'è qualcosa di giusto in questo gioco o qualcosa di veramente sbagliato come per bonus ok no allora graficamente sì graficamente è fatto molto figo molto giappo ma poi ti dico hai fatto i nemici che sono dei mecha che hanno forma insettoide però sì è molto difficile è molto non è intuitivo ma no e poi non ti dà sfizio quando quando distruggi le cose non ti dà esatto non ti dà la sensazione di potenza non per curare le espressioni filosofica sono per culabili assolutamente quello cos'è il suo pisellone cos'è sembra una bologna ma che cos'è è vero è side set però in realtà sembra qualcosa io veramente dopo che mi hai detto questa cosa questa immagine non mi si leva più dal pisellore del coleotelo spaziale meccanico in questo momento stai mettendo delle sostanze sta provando a riprodursi col turica no eh sì Marco ma perché è così speriamo che tutti questi che ti spara solo uno raggiungerà l'ovulo esatto posso dire che è veramente è un abominio questa cosa io tra chi questo è uno raggiungerà l'ovulo ma quanto dura questo combattimento sì non c'è una barra di energia del nemico è a continuare la barra si illumina quando quello colpisci in un bar un menzo soltanto con con l'arma caricata solo col bim lo colpisco perché quella cosa che pulita di mezzo la rossa pulita se c'è la goccia è Jim fatto adesso tu stavi sparando gli espermini come hai fatto a cederlo non lo so non mi fa domande allora sto gioco mi dà l'impressione che sia un gioco rotto cioè allora no perché graficamente è tanta roba però tutta sta grafica mi sembra tutta quanta glitchata non so perché c'ha una sensazione di glitch è del 3D comunque c'è la goccia e glitch dice anche non è in realtà non è vero 3D è un pre-indirizzato però intanto ragazzi votiamo 7 e mezzo 7 e mezzo addirittura non vado oltre non poter il gioco che è più bello da vedere che da giocare per me pure sì per me un 7 non direi di più ma questa che è disperata braccia ma che te disperi ma che te piagni allora non ti piagni sti giapponesi sì allora e capirei tossisce quando tossisce regà non sapevo un cazzo non mi sono accorto di niente la vita a volte è strana esatto può sembrare quando può sembrare a tutto il mondo qualcosa di normale a qualcuno appare strano e questo è proprio il caso che non tutti siamo uguali siamo tutti allora vai Marchetto io pure non sapevo niente di questo 1986 e Konami e per la felicità di Mr. Andrew di Gradius però il Versus cioè è quello che è Ness ma no eh sì no Arcade VS VS Gradius regà ma è la versione è la versione arcade io sapevo che il VS è quello Ness sì sì ma è la versione Ness naturalmente però credo famo quella normale no 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 ma va bene va bene pure quella non ho capito nulla cosa sta allora praticamente le versioni versus di questi giochi qui che sono tutti i giochi usciti per Ness che sono stati poi convertiti in la loro versione arcade aspetta André ti interrompo allora Marchetto qua dobbiamo mettere i tasti bene allora eh questo io me ci confondo sempre questo è il tasto 1 che serve a ah 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 parare vai ok va bene così quello che succede dovresti mettere quello per cambiare scegliere non credo mi pare che invece il primo è quello con cui scegli e poi due tre quello era uguale sì tu devi mettere i due tasti per sparare l'ho fatto ABA no allora due tre devi mettere uguale Marchetto due tre uguali ok così era no aspetta io lo sto impazzendo ok vai cosa sta succedendo così spari sia il colpo che i missili con lo stesso tasto e selezioni potenzialmente con l'altra perfetto perfetto di cosa lo stavi spiegando prima che il versus no no dicevamo dei versus te tu ricordi dicevi è la versione quella del NES di Gradius eh sì eh ma sono le versioni credo dei giochi NES vi riportate su arcade eh io quello non tendevo sì sì che si chiamavano quindi dovrebbe essere la versione di Gradius del NES naturalmente quella esatto io quello che dicevo c'è quello mi ricordo quello di Xbox Mike mi ricordo quello di Super Mario mi ricordo diversi lo so diversi no eh sì la parte crispy sì più di altro sì ma fai il double no 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 lo riprovisionisti no io decisamente no è Andrea che è del mestiere oh guarda l'ho rifatto oh guarda l'ho rifatto orca broia rifatto capiamo ha preso no è che è quello che ti distrugge tutti i nemici quando non c'era nessun nemico su schermo tranne quello che ti dava mi sa un potenziamento che ti ha esplodato dentro la montagna e quindi non t'ha esattamente esattamente per culo devo dire la verità che cuia che cuia adesso allora non andiamo camminati dalla vita no no vai giù vai sotto vai sotto adesso sali verso l'alto in maniera tale che i due pod diciamo rimangano staccati da te capito ok se tu lo lasci lungo a mo' di serpentone praticamente ti ritrovi con tre laser per non dire quattro che colpiscono molti più molte più rocce assolutamente sì però ormai lo fa lo devi lasciare lungo a forma di serpentone esatto sempre meglio è una metafora che doveva rendere l'idea ha fatto il suo lavoro vai e si va e via e via là dove nessuno uomo è mai giunto prima nessuno uomo aspetta a prendere blu eh ma così è inutile non ha aspettato era più eh no ma sarebbe uscito sarebbe uscito quindi eh beh aspettare fa l'uscita attenzione vai guarda le palline nel tre hanno aggiunto un bonus di merda praticamente dopo il punto di domanda che era la barriera è il punto esclamativo credo ma che caspita mi ha sparato è dall'alto che praticamente ti fa diventare la barra di power up rossa e cambia velocissimamente la scelta del power up nel senso capito che scorre velocissimamente a modi slot e tu devi cliccare quindi casualmente puoi prendere un power up tra cui pure quello che ti leva tutti i power up che hai già preso praticamente come la roulette dei parodius sì esatto sì tanto parodius è ispirato a a cosa di come funzionalità dico sì sì è molto simili bella sola questo aspetto negativo che se tu sei concentrato sul gioco difficilmente ti metti a guardare il punto preciso in cui fermare per cui se magari sei un pezzo avanti e ti servirebbe un potenziamento e ti leva tutto all'improvviso capisci che è abbastanza scoraggiante io mi sono accontentato di questo Andreia perché è vero scorreggiante scorreggiante perché prendi sempre doppia velocità ti scorreggio insomma perché vedo che si muoveva molto molto veloce io perché ne metto solo una di di speed velocità eh però così ma chi hai fatto perché i tasti eh ma no perché prima sono morto no 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 è semplicemente perché non c'è abbastanza mamma mia mamma mia davvero che mossa incredibile Marco era l'unico modo perché se no la c'è rimuoviva un'altra volta tanto non muoio qua qui però vedi meno potente ci arrivi è un pochino più easy è questa parte prebossa la parte cristica potremmo fare il cipare non è un problema preferivo comunque arriva a contanti direi 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 c'era grey c'era grey trovo il preboss non è grey dice del boss stesso c'era grey ottimo direi oh bravissimo cosa ci ho dovuto per il sanat non era non mi venia non mi venia lo sparo così fai lo sparo lungo che gli fai più danno al boss è più grande ma ragazzi è stato un sacco di volte è stato è stato è stato votiamo anche i ragazzi per Gradius bellissimo ma perché pari maesi chi è Gradius che caspita glielo vuoi da questo 9 9 chi è Gradius Zucca Gradius è 9 nob io gli do forse anche 9 e mezzo non lo so attenzione eh questa roba guarda che due in famone metti missile metti missile eh bravo il preboss è con quelli lì turicano scusa il preboss o il pseudoboss no il preboss perché se ci fai caso prima del boss il fine livello tu hai sempre una sorta di è difficilissimo qua preboss nel primo livello il vulcano nel secondo erano tutte quelle palle che ti vengono adosso ciao chicken un sacco di quegli affari ti hai ucciso adesso allora palle ah non vuoi fare un'altra? eh eh beh hai fatto salire la scimia tu Riccardo e quindi stiamo facendo un un replay un long replay ma perché Harry dopo lo vuoi giocare anche tu? dai Harry questo qua lo devi giocare una volta te oh docca me purtroppo una ferita lacero contusa a un dito della mano che mi impedisce di giocare dai Harry non ti cazzate su dai ma si credibile ferita lacero contusa io non ho mai capito quando si ha riportato una ferita lacero cosa vuol dire? è una ferita basta perché no è l'acero contusa è l'acero contusa l'acero contusa vuol dire che c'è stai il calcio è anche l'acero è l'acero è l'albero l'acero esatto è una ferita di portata contro l'albero lo sciroppo sciroppo d'acero è il cognome ed è anche nobiliare perché doppio è l'acero contuso esatto porca miseria è deficiente come se fa a morire così idiota cretino chi 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 io 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 per colpa di chi 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 scusi ma mi date lei? no no è congiuntivo no è bialù spidata non stai andando veloce che cazzo abbia già due speed up allora concentrati sul gioco e non stare a sentire le sciapità auguri a noi sei anni a salute di nostra e di chi ce vuole bene bene però Alex non li dimostra no decisamente no e anni non li dimostra quello in alta a sinistra che arriva non me frega stavolta aspetta aspetta la prendere quello viene ancora più avanti non prenderlo non prenderlo devo decidere prima quello sotto non prenderlo quello silvestro perché dovresti conoscere bene i pattern levo levo troppa cacciara non riesco a giocare farlo te no perché il problema è che per giocare a questo gioco non devi essere disturbato non disturbato nel senso tu sei disturbato ma gli altri ti disturbano no no per giocare devi essere un pilota dei cacci interstellari io sono pure disturbato dei miei quindi pensate come ci posso giocare bene io vi faccio di Taito Corporation sempre 89 in Sector Ickes apidia puccioso allora però è uscito è uscito prima prima sì allora parli ispirino è tutto un disturbo qui parliamone bellissimo perché la domanda è perché come le cose che ti possono venire in mente nel realizzare un videogames tu devi fare un qualcosa che ha come protagonista questo questo cioè ma proprio costruito come posso dire 9 massimo 9 massimo ti do ti do una risposta che probabilmente è la risposta a tutti quanti gli altri dubbi su sti giochi un po' alternativi sono giapponesi basta veramente basta non c'è altra spiegazione tu pensa pirulola miseria porca quel gioco regalamente fatto sotto lsd e so giapponesi ma guarda quella cosa che ricorda un po' la primaia tutti quei cartoni animati un po' basati sui insetti no vula 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 esatto la maria in quella decada tra metà degli anni tanto metà del 90 le ricerche a disperato della sempre dell'originalità sono stati fatti giochi con protagonista la qualsiasi cosa ti venga in mente c'è stato il fatto gioco c'è ci sarà pure un gioco spara tutto con uno stronzo di merda che vola e spara degli stronzetti più piccoli forse non lo so dovrebbe esserci ci sta un gioco uno sparatutto orizzontale per ps1 che non è mai uscito arcade credo che sia un'esclusiva ps1 forse c'è pure su saturn dove praticamente guidi di luoghi di nudi mi pare che mi ammazzava pure a me posso fare una domanda ad alberto angela che ci stesse in questo momento ciao alberto grande tu hai tante conoscenze ma in egitto dentro le piramidi stavano le romache esatto che è un'erroba che è proprio il piano di lumache vabbè c'è insetti ci saranno stati pure lì ma dentro i piramidi ci saranno le scolopete dei grey school no le romache ma magari c'erano dei vermi tipo quelli e tremors che stanno dentro al secco invece capito che non vanno nel lumino ma vanno nell'indifferenziale niente mi vado a prendere il pandoriba adesso torno aspettate ma non ve ne andate e chi cambia canale è un truffaldino morito grande e ricordiamo a tutti che questo gioco lo conosco non bene da come lo sto giocando perché era nella caserma dove faceva il militare il 92 che pensa non bastava a fare il militare pure potendo dire dei giocchi discutibili all'interno la caserma no non è molto un dio esatto esatto ricordiamo ricordiamo che oggi siamo riusciti a giocare ad un gioco anche grazie agli aiuti degli dei esatto degli dei che con un semplice tasto potevi richiedere l'aiuto degli dei il tasto era T T T richiede l'aiuto degli dei 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 ti suggeriamo delle cose di scritto chi cambia canale è un piccolo credito eh no pavle io il militare ho fatto nel 92 metaslag ancora ne è uscito ah da te ah scusa pensavo avevo letto c'era anche metaslag no ma non è ancora esatto esatto allora z queste cose si spostano con la lingua italiana ma però plurali inspiegabili pluralismi pluralismi ea dio dei perché dei dei allora intanto vogliamo ragazzi per quanto esatto mi bene vogliamo per in sector x ma ragazzi io non so il pianto avrei tu avrei la nostalgia io per me questo è un gioco molto discutibile per me è un 8 discutibilissimo non c'è ma l'ombi cioè dei funghi messicani all'interno di sparo no ma loro capo certi facciata sta votando questo bellissimo gioco io come si chiamano gli esperti di insetti non mi vede aiuto certo eh eh l'alto punto monolite monolite erano l'alto io 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 l'ultimo oggi allora tu moggi c'era attenzione da no niente da non confondere con scientologi e sì assolutamente no c'era in edicola vendevano degli insetti dentro delle cose di vetro piccole dei piccoli contenitori con questi insetti non ho mai capito se fossero veri o fossero farsi e come quello le uscite dei metalli pregiati prima uscita con loro un grammo d'oro un grammo d'oro c'è costa 30 euro e l'uscita era un euro e c99 aspetta però non specifica non era specificato che quello non era proprio oro 18 garage era zero cara 0,5 era cariato piccato era ora cariato questo bosso è preso da water poi dragon frere master l'era cioè è l'app di water poi un po diversa grandi grandi attenzione trattori da collezione ma c'era c'erano delle cose costruisci il tuo trattore a scala reale anche quello ma c'erano tipo quelle cose costruisci io volevo fare questo della scala 1 a 1 della 1 pl del 1992 e si chiama kusetsu yusai stral non ho capito niente puoi ripetere allora kusetsu yusai stral ma non lo so io volevo dire che c'erano queste pubblicazioni con tipo la prima solo un euro e poi le altre 1800 uscite per cui a salire a salire da 10 fino a 20 euro alla fine per costruire una macchina capisce un comune denuclearizzato a bellissimo quella cosa bella di avere i comuni denuclearizzati con la centrale atomica in svizzera fantastico cegli e scelto cosa dice chi è navi che stai comprando devi fare in alto button push 2p non capito niente però vediamo in più tivo in più tivo a servire di poter indietro cosa sei no mamma mia se esplosioni lei c'è del neo geo è uno guarda adesso che me lo dici mi ricorda molto però la grafica è qualcosa di nuovo l'acqua anche la sua paletta mi ricorda molto neo geo dei primi ok l'altro tasto e gli albori seconda se missili eccolo e sai vi sai a questo ricordo e mi dimmi tutto dimmi tutto a mio giudizio sul tuo personale allora questo è il cui se ne si usai strano allora graficamente me sembra valido l'esplosione del neo geo della prima ora assolutamente sì e forse l'unico problema sono gli sprite un po troppo grossi questo video c'è del mia zaki porco c'è del mia zaki del lato un porco aghi è vero però è molto gradevole cioè non mi dispiace per niente come gioco ma io mi è una nuvola una nuvola a forma di che è la forma di casa mi dispiace tantissimo scuri g che la vorrei informare tutti che mi sto facendo proprio in questo momento in diretta in voi e far c'è la la fetta di pandorib con la nuova lega non mi criticare perché se quello che si mangia a mezza e gli a di tiramisù quando sta in live quindi ecco la direte esatto come bene quando sono esatto sai cosa direbbe canterebbe mina in questo momento cosa è proprio adesso sto godendo facendo io capito ma io cazzo fai guardi quanti e spera mamma mia guarda che rollo guarda che rollo guarda che rollo d'unita bing d'altro andrea quanto è bono e mamma mia a stare a prendere qualcosa furia di assinguto ma no perché lo voglio che sono geloso che lui c'era io no allora lo devo prendere anche per la modificazione giusto e poi mi funziona ai capri silenzio parla niente no concentramento da porco 2 votava su cazzo il gioco che mi sta a far cazzare un prego la città di rapida successione di scrivere dei voti vi prego unitevi fate questo rito collettivo di fare dei voti io darò un voto e espressione della mia presenza fisica 5 5 saldiamo alex saldiamo a 95 no alle no 5 5 no degli almeno partita 76 c'è allora no almeno la serie di campagna ovviamente e di almeno partire da 7 6 graficamente validissimo secondo me la difficoltà forse un po alticcia e però mi dà anche l'impressione di essere molto giocabile che risponda molto bene ai comandi che una cosa fondamentale per qualsiasi sparatutto per me questo qua è un 8 io lo dico questo un 8 e tu li fai e gioco a sparatutto e tu li fai tu rifai tu rifai ma ma di madonna e missile demonios budellone due famosi ministri supposta e poi andrea c'è stata sensazione bellissima no che tu praticamente prendi le due strati noi le strati del pandoro no del pane il pandoro si chiamano superiore e inferiore in mezzo c'è questa bellutata di di nulla dentro di nutella e quando tu addenti praticamente lo senti proprio un'esplosione di di morbidezza e di e di cosa morbida dolce in bocca che si va a mischiare con la fra con la fragranza del pandoro odiamo veramente c'è il conti vorrei dare una notizia d'alex la chat ha già votato per cui mandorina poi appena vuoi appena vuoi appena vuoli e volum a certi forchi da fai molti stanno come volano male con le azioni da fare un aereo e rimane aereo che vola male vuol dire precipita ha fatto nella testa sono quasi adesso sono momenti drammatici basta allora ori di fare più pazzo dal mondo e soprattutto il mitico pilota automatico madone spettacolo allora come terzo titolo vi faccio fare un grandissimo classicone è casa con ami del 1981 è e vi faccio vedere scrambo no arrivano guarda domani mi fa pensare a questa cosa al cioccolato bianco e tu non sopporti mi pare non mi piace però c'era un cioccolib al cioccolato c'era il corico con l'originale dove c'era l'ultima maschio e il bianco rib cioccolib che la protagonista era femmina assolutamente poi era molto sessista come cosa no adesso non c'erano ma la cosa già era patriarcale patriarcale esattamente adesso 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 tutto in realtà qualcosa che non era patriarcale era ergo spam con il quadri ergo spam no 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 che dava la possibilità di vincere delle monete di asterix e obelix ma la io mi ricordo una cosa del genere che però era mi pare che si chiamasse ovomaltina credo ma dentro al tappo sotto al tappo ci trovavi i bottoni c'erano bottoni erano piastrine dei cartoni a di gole e vero di goffredo esatto e parliamo del 79 80 da visto anni meravigliosi che devo dire sì ma ne ricordo poco non è altro che io ho fatto ricordo però ricordo ciao l'ho ottime ale sta cercando di uscire appena parlo moro grande e avvio ciao retro sai perché alex perché una volta potevamo fare più cose contemporaneamente adesso che è raggiunta la certità il cervello i dei otti pochi neuroni a vero a quest'ora riescono solo a fare una cosa per ti diciamo che pure i riflessi cominciano a cala pochettino è vero dai infatti ci sono le competizioni di di fa di giocchi calcio dove i più bravi sono tutti quelli sotto i trent'anni ma non perché sono si bravi come generazione semplicemente per un fatto di fless è un modo mondiale come nella formula 1 io rifletto perché la cantava o poi uno si può pure attrezzato un paio di specchi in più e riflette meglio però votiamo allora io scampo vabbè questo quale no è iconico ragazzi questo è un gioco iconico io darei un 8 non so voi ma io darei per me 9 9 se volete bene ad alex vota è rimasta di questo esiste un'ottima conversione su commodoro bella veramente bella della bella non si serve parte conto che il salto apprezzano ragazzi molto più grande a 9 e mezzo meno 8 ma ciao per lo dio e ma porco si tiene chiama pure esatto pensiamoci ma come tutti ben sapete un bel gioco dura poco allora è una pia da mani ma prendi conto tu lo sai marchetto che dipende uno se deve affrontare Mario e Monti ma da che dipende Mario e Monti eh purtroppo non si può salutare però Mario Monti lo possiamo salutare che ci segui sempre ciao Mario grande grazie per seguirci sempre ecco grazie allora facciamo fare della Visco Games questo è per per Neo Geo 192 Andro Dunos bello 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 ciao Denise ciao Denise sono delle cose belle però adesso adesso non regala più niente nessuno allora cuino poi hub un po' hub esatto e i quattro tatti di cui si usano non credo che servano va bene lo rifacciamo ah dio fabisce un attimo esatto a due finire salita bay bay pc bay pc è una birra molto diretta l'abbiamo già fatto via bb di bobb esatto bb balconi abbi di bobby e di di bobby guardi che ecco esatto dubbio 7 ma che bello che parte in questa cosa attenzione allargo lo schermo così no morirò morirò no allora doppio sparo subito così d'amblè vizio come volerla esistente andro d'uno 2 ma posso potenziare il tutto scherciando il tasto ovviamente si ho premuto cos'è sta roba scusa lei è così no esatto proprio cambiare tu il tipo di arma all'abbisogna all'abbisogna guarda che bello sto gioco questo è veramente bello questo è stato sempre molto sottovalutato perché comunque è un gioco un pochino secondario no che spariva un po' nel marasma dei vari aritype e quant'altro ma che scompino invece esatto invece secondo me è bello vero sto gioco regale la giocabilità devo dire che orca misera bello questa cosa no così no così pura music che cos'è quella cosa che è uscita dal tic è un vermono un vermono un vermono un vermono ma si scappella eh sì scusate uh 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 assolutamente sì è bello molto bello e chi lo eccolo com'è questo raga bello io gli do un 9 a questo qua rega condivido andrew dunos a te questi che mi fa bibb 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 aspetta fammelo rivedere un attimo questo porca miseria qua quello che spara fa comunque può pure cambiare ma è perché lo so ma ho paura lo so non lo sapessi ma lo so non ha senso ciao muzio neanche grande muzio buonato buonato basta ma porca di sera ma dammi dammi tempo cavoli il mostro della mano diciamolo forte allora ciao muzio grande ben trovato porca non è facile per niente ragazzi non va vale mango sta zitto che non voglia zuccherone adesso aspetta che bannamo grande zuccherone in quarta d'ora no grazie zutto scherza ovviamente certo ci mancherebbe se bannamo zuccherone allora matando che bisogna fai e poraccio a minaglie a minaglie è bannatelo bannatelo allora ragazzi tanto vediamo per questo gioco molto maschile che si chiama andro dunas vana no vana mannaggia la miseria la miseria l'imperia mannaggia siamo rimasti in tre rimasti è rimasto il mostrone il mostrone oddio cosa fa il mostrone fate le mostre questo devo far fuori o porca mi era porca mi è malai come lo eviti con la porta io vado dritto ma non lo eviti come fai allora per me ragazzi questo è un 8 come fai a evitarlo come fai per me questo è un 9 come fai a evitarlo a marco dici nob per me si questo qua devi aspettare luce separa perché vai da giù dice questa cosa che hai detto è molto ironica per chi ci è passato ironica non c'è nessuna possibilità di riappacificazione no allora metti lo sparo centrale qua a me il giudice ha detto allora chi è il marito io ah beh ok ok separazione ok a posto subito così d'amblè no sto a scherzare no vabbè c'è manca di riappacificazione no allora l'affidamento è congiunto queste 5.000 euro ah vabbè ma spiegava no ma andiamo avanti avanti da due ore tentando di uscire questa ruota che gira 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 maniato prestigeremo la mezzanotte con eric gira 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 che due palle come si uccide questo ma cos'è quello non era una cosa buona aspetta fammelo c'è infatti volevo vedere un attimo poi cambiamo dai allora votato tutti ragazzi ma muori fare un'arma incredibile e questo è solo il primo boss pensa ad altri ma non è possibile dai veramente no in realtà bisogna aspettare bisogna stare fermi in un punto e aspettare quindi ti fai il palo eh sì praticamente sì perché lui appena si separa e ovviamente va dal giudice però no è goof devo mettere devo cambiare tutto come faccio metti il 2 per Dreamcast e il 2 sta pure su Steam ragazzi se vi interessa molto bello non sapevo che fosse uscito per Dreamcast lo sai? ti capisco ti capisco ha rotto allora abbiamo votato ragazzi io sì io 9 che te stai a mangiare lo so allora se abbiamo votato facciamo fare Harry questo titolo che viene sviluppato dalla Sassas e pubblicato da Sega nel 1991 il gioco in questione è Scotton che è bello questo e se tu ci giochi troppo che? diventa Scotton esatto esatto boob bod possiamo chiudere qui la live arrivederci buonanotte a tutti io sono bello vedi la faccia della tipa io c'ho la stessa faccia sua da un casino molto discutibile l'ho ucciso piazza principale messo ai ceppi ai ceppi guarda qui mettetelo ai ceppi cos'è? mia 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 bello cotto tosto però eh sì è difficiletto però ammassa sto a vedere il gufetto mamma mia quindi non è un cotton fiocche è un cotton tost è un è un cotton sì è un cotton bastardo abbastanza tost poi ti hanno fatto pure persone fisiche figata questo ragazzi è tanto tanto giappa eh già già per quanto a me non tecnicamente è fatto molto bene a me non piace tanto la diciamo l'ambientazione il soggetto non non ti sconfittera sì non 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 mi intriga ecco non mi fa scatta la scintilla onestamente però è bellissimo chiese po' di niente veramente tanta tanta roba come sta che miagola ma che temi a così ma che ti c'è che c'è la messa perché c'ha ave ho capito che c'è ma che c'è un gioco esatto te bravo no io andro tu no sempre su neogeo l'ho sentito non pensavo che fosse uscito pure su drinkast onestamente ma anche il primo pure il primo sta di gufetto sì ah non lo sapevo a meno che non si sta riferì a cotto ma non credo ma non credo papà la parte gli spi ah lo sai che mi sa che non uccisi orca miseria mamma mia oh questo sta diventando rosso occhio perché non fai la fine del cubo di prima questa è già una bella notizia vai è un brusciolo è distrutto senza morire adesso poteva lanciare una bomba già non c'è tutta il titano che si è al film me lo preva dire che poi devo prendere questi bonus e se apprende viva la fida esatto l'armonica è 2 può ridere allora votiamo ragazzi intanto per cotton ma guarda è ottene me io stavo a pensare stessa cosa ma un ricano ottene mezzo di un inizio di un inizio e mezzo bucce iron 5 rino m8 parte crispi 9 ma gli iron ai iron 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 v vabbè arion iron l'ho pronunciato e kraft 7 retropine c8 n credo che sia otto non lo so figure on the rock 8 lone wolf otto e mezzo melo 7 zucca sette e mezzo alla zucca per me 8 ma l'albero è l'albero ma è bello creepi sto boss a me sta ambientazione mi piace che vedevo di alla brutto dice nulla capita che chi cambia canale ha un alito importante assolutamente sì ciao brù bentronato c8 n che è qualcosa che fa star wars no no non credo almeno a cotton c8 cotton or cazzo sa bruno però veramente è amato io che sto ritardato io farei un ban per chi l'ha scritto è blu è blu ha scritto bruno l'ha scritto brunzo ha detto non l'hanno capita ah no non l'hanno capita no 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 io farei ban per brunzo almeno un quarto d'ora e poi sarà ora famo 10 dai no 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 l'ha scritto bruno avevo visto il retro che l'ha iscritto te porca miseria ma ragazzi chi è che ancora non ha votato per brunztan cotton è poco due però ha rotto il cazzo o ecco esatto che palla che hai detto basta 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 dai se abbiamo buttato tutti ma potevo tenere premuto e fare la magia straordinaria nessuno me l'aveva esatto straordinaria 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 allora questo che roba è allora famolo fa eri che non sapevo neanche cos'è no no aspetta aspetta ne puoi fare uno no va bene anche le cose di sconti dai shh esatto ah gli facciamo fare questo dell'Irem 1992 gli facciamo fare Mystic Rider questo colpo di tosse non volevi commentare questo gioco no no mi stavo semplicemente schiarando la gola è un po' di catarrino quindi hai fatto lo sbiancamento della gola lo sbiancamento golare altre cose che video abbiamo visto in altri tempi Henry eh sì allora Gufetta dice dal momento che Pixel Earth ha annunciato di aver acquisito l'intero catalogo Visco Corporation è possibile che vedremo in futuro altre conversioni e seguiti su Dreamcast ottimo ah buono magari ci cascano c'è bisogno di titoli su Dreamcast guarda Marchetto guarda il numero di crediti è 27 sempre lì andiamo al 9 è sempre presente 27 27 ancora una streghetta sulla scopina questo ragazzi è Mystic Rider le mie gonadi stanno veramente questo somiglia molto a quello di Capcom che è tre giochi in uno i Wonders esatto si è vero scopiniamo dove c'è il gatto nero che fiscia su Dreamcast il gatto nero che fiscia su Dreamcast ti tiro addosso a lui lo tiro addosso a lui ah la frega chi se ne frega viva la frega è quello su Dreamcast è quello è una musica veramente toccante scusa che tocca mi tocca ma dove ti ha toccato esattamente mi tocca vuoi la bambolina per farmi vedere attenzione attenzione ma non morirò no non ora non oggi non morirò eh funziona eh ma tanto l'uncesimo volo è fuori eh sì eh non si può aver tutto nella vita anche il Vana anche il Vana è fuori non è rimasto ogni tanto eh Vana sta fuori da testa ma quello lo sappiamo sempre eh invece Simon esatto per tutto il resto c'è Turicano esatto che culo Turicano che guarda se con questo gioco mi banno da solo ne fa un po' cagar non ti piace ma ci siamo qui col marco che secondo me non è male scusa ma però mamma mia brucomela 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 però io ritorno un po' al discorso di prima pure fatto con Cotton non mi piace l'ambientazione troppo boh farirò troppo è troppo biglia la sfida della magia come ti posso dire è troppo boh è troppo anime Mediaset non mi piace anche Medioth anche Medianov esatto attenzione perché Asdrubalero si sganascia dalle risate grande Asdrubalero sono contento queste cose mi danno tanta soddisfazione quando succedono bene ho deciso il serpente da non l'arriva nana che sarebbe il no ho capito il serpente sarebbe non è un serpente l'attore dello zoo di Londra ah già il serpente speravo in una battuta nuova i funghetti qua ci stanno eric c'è stato i funghetti chiamati i funghetti il piatto il grosso ho fatto sì per lì allora intanto votiamo per Mystic Rider per me è un ottimo titolo per me è un 7 per me è 8 perché tecnicamente è fatto bene però c'è il problema dei cotton ma quella è la cosa soggettiva ovviamente però è fatto bene che dico Dio no no infatti lebellino lebellino lebell allora Denise sarebbe 7 e mezzo ma scende a 6 dopo il gat esplose vero ah 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 va ragazzi votiamo ancora chi non ha votato e poi tocca a Mr. Andrew nel frattempo allora finito di mangiare le cose che sta mangiando oh maniare adesso per addormire la bestia prima ok la bestia mamma adesso che da 796 chili quindi è una vera dalla spazzanatra ci vuole largano vabbè ma tu la fai non credo che sia una cosa tanto ce la fa più ce la fa più pezzo che non ce la faccio più veramente per cui non può via 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 bobcat me ce vuole possiamo poi 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 si chiudormi vai 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 va beh allora vai Andrew Rick partendo dovresti già essere connesso allora primo titolo facciamo un titolo di Taito zero titolo della Taito del 1988 28 R Taito Sciuca per cazzo casella questo molto 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 difficile questo è il gioco di Goku la scimmietta nell'oriente misterioso c'è un brigante mangio al mandarino bambino che ho messo Bambino no allora due due è un beo e poi non mi ricordo quello rientro c'è qualcuno c'è qualcuno c'è vai c'è Taito ciao ciao una potrona ciao potrà per due grande fettuso allora nell'oriente misterioso c'è un brigante generoso monkey con le sfide sui scimmiette dei potenti si fa beffe monkey trema il mandarino per il suo destino coccodrigli e scimitarre non riescono a fermare monkey ha una banda scatenata che non batte in ritirata monkey ruba il mandarino tutto il suo bottino ma lo stai leggendo è il testo della canzone vince tutte le magie le soffiate delle spie monkey più mortale di un serpente della tigre più potente monkey piange il mandarino peggio di un bambino dal suo covo come un lampo piomba allora non c'è scampo monkey ripulisce carovane dai poteri al pane finché il mandarino non ha più un quattrino nell'oriente misterioso c'è un brigante generoso monkey con le sfide su scimmiette coccodiglie e non c'è uno sparo basso no ma cazzo distruggo le robe una volta mi sa che è un potenzialmente andrea ah questo auguri bocca al lupo capito non è facile questo no assolutamente no no però secondo me è più accessibile di almeno un paio di titoli che abbiamo giocato fino adesso lo sai vg per esempio questo secondo me è più semplice degradius o forse no aspetta che rifaccio rifaccio forse no aspetta ti riavvio allora questo ragazzi è ciucca taisen ci ho cercato dai ci stiamo abbinando 11 e 20 grandi falcate grande falcao si sono belli fondali zedo assolutamente si sono disegnati molto sono molto come si dice vocativi ecco eh porca no 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 è difficile eh bisogna conoscere il padre dei nemiqui e intanto il tempo si ne fa piacere sono padre ciao pattern come stai tutto bene io lo chiamo poter bellissimo no perché così puoi dire di aver conosciuto il padre esatto è vero sì sì è mo anche il brigallo occhio c'è anche la nuvola speedy la tins poi il nome originale è la nuvola speedy qual è? aspetta capito quello in basso sotto come cazzo li uccidi è impossibile allora l'in basso li uccidi con il penso che c'è un potenziamento che spari missili tipo la nuvola kinto nuvola kinto quella che era nuvola d'oro da noi adesso f no no kingdom kinton nuvola d'oro sì esatto chiamata anche nuvola speedy ma va intanto mamma mia ti ha vedi puttana merda non è ma non si è obbligato ammazzarli quelli però non è chi mi si tasti si button 1 button 2 fammi rifare button 1 button 2 va nel dubbio ma può essere che non c'è un tasto per sparare in basso perché non riesco a capire come cazzo si uccidono basta e altri ce ne allora azzato dice 9 a questo gioco perché perché ero piccolo e mi piaceva troppo e andava solo a 2 piotte quindi 200 lira ok mentre gli altri costavano molto 500 allora per me 7 ma anche 8 solo che lo devi no 7 per la difficoltà devi imparare il pattern dei nemici poi come molti sparatutto in realtà c'è pure airtype funziona così ma che ah sì sì è vero il genere è quello rega non è che c'è ma quindi niente semplicemente quelli non li ammazzi punto infatti adesso però io mi ricordo che c'era veramente come di Andrea eh porca merda no non so neanche il valore dei potenziamenti che prendo cosa mi chiedono guarda chi non ha votato ragazzi votiamo per ciucca per me un sette e mezzo sì secondo me ci sta un sette e mezzo è troppo sicuro sì sì ieri perché comunque secondo me è un po' difficoltoso perché vedo un difficoltà in difficoltà anche Andrea quindi quando sta in difficoltà lui vuol dire il gioco effettivamente è oso è un bastardo quindi quindi sette e mezzo estivo ostico sì 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 io e porca madonna capisci capisci comunque arrivano da sopra cioè le le wave dei nemici partono sempre dall'alto praticamente a parte sti cazzo di specie dei gufi ramen e così sia e no vuole ramen e così sia vabbè ok sì è vero che poi comunque siano tutte da cioè tu prendi sti bonus ma non ci stanno cambiamenti infatti si capisce perché perché no cazzo vado cioè basta cambia cambia allora secondo ultimo per Andrew e allora un gioco penso che abbiamo mai fatto questo Irem 87 ancora inizia ai irem si ecco la iri sacola ai 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 signor bellissimo fai gli spara tutto orizzontale non puoi non fare ciò devi mettere per forza cosa 4 darstins si capisci però allora start q ecco in mamma mia sto livello che sta a far vedere la threat mode è veramente tosto ci sono arrivato una volta il quarto ma è mamma mia quanto è tosto eh non devi perdere i potenziamenti eh ma è facile non devi perdere non devi morire mai non devi perdere non morire mai no no è sempre sicuro si questo lo abbiamo già fatto assolutamente chi ha detto no no e lo rifaremo anche molte 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 altre volte regà perché questo qua merita e va visto bellissimo bellissimo il 2 non lo giochiamo spesso però eh il 2 non lo giochiamo spesso l'io vabbè non manco lo tengo in considerazione perché non esiste non c'è non c'è però secondo me il 2 se potrebbe approfondire un pochettino avevamo provato a finirlo vi ricordate però non ci siamo riusciti sì nel marco con i cheat l'abbiamo finito sì esatto vero sì è capitato per caso così per caso per caso è capitato per caso un tipo di caso ah sta provando qualcosa di diverso hai capito qualcosa di diverso ok ragazzi allora ho visto su youtube una conversione di questo gioco fatta per il Pico 8 che non tutti quanti conosceranno il Pico 8 è una mini console molto piccola a 8 bit ed è il Pico 8 e praticamente sono riusciti a fare una versione di R-Type su quell'affaretto lì piccolo che c'ha dei pixel che so sì è una console fittizia non esiste cioè nel senso che è una console virtuale praticamente però ci vanno sopra sti giochi che sono molto semplici sono proprio giocacci a 8 bit con una risoluzione grafica bassissima tipo 320p però fatti bene cioè hanno un sacco di di belle caratteristiche tanti colori su schermo scrolling molto fluido multidirezionale parallasse poi fa un sacco di bella robetta e hanno fatto una conversione di R-Type che è fatta molto bene eh immaginavo conoscevate Nicotto ci mancherebbe si passerò talcuni sono veramente belli dei giochi confermo invece altri altri meno altri meno sono altri per no per no diviso neanche no dire di no altri più e altri meno si solo più e meno si 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 solo plus e minus mezzo mezzo esatto mamma mia allora intanto buttiamo ragazzi anche per air type che io voglio dare air type beh la sua categoria 9 e mezzo voto air type queste chiede 9 e mezzo dai io faccio 9 dai secondo me questo qua non dovrebbe essere un fuori un fuori come si dice fuori classifica è troppo è troppo questo non c'è vince vince lui stasera tranquillamente a mani basse ciao ste buonanotte ciao ste vince da mani basse vuol dire che non hai manco menato per vincere non semplicemente a voce gli ha detto io sono più forte quello hai vinto tu 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 che bello ti sta liberando eri si ok l'ha prurrito feroce avevo al polpaccio ha prurrito al polpaccio attento al polpaccio perché il polpaccio è una parte importante madonna una volta di notte mi sono svegliato una notte che c'è il crampo al polpaccio una cosa tremenda non so se è successo pure a voi mamma mia è il dolore atroce addirittura per svegliarmi che io per svegliarmi ce ne vuole ciao marchi con ciao marchi con non mori qua che l'altra volta sei morto come un pagliacib no no inizio dice allora brutto dice turricano magnesio e potassio per i crampi no vabbè ma una volta sola mi è successo non mica ne soffro ecco il condorone oh eccolo va super condorone grazie condorone che confusione oggi ragazzi che meraviglia però ecco questo è il livello tosto di questo che è veramente arriva comunque livello quattro senza perde mai la vita partitone e ho capito però vediamo diciamo diciamo da pure vinta una vede d'evinità dai seopuri di tara 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 occhio esatto mamma mia no sono una merda porca madonna scusa ma no brus sta giocando andrea porca merda 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 scusa non voglio tu sai tutto questo non c'è andrea ma come no sta giocando mamma mia se te l'hanno tirata esatto veramente veramente eh mamma mia mamma mia mamma mia Mario esatto eccolo questo è un componibile questo è un clicchetto sto nemico attenzione che ci passa solo dal Simoni ma ce l'avevi i clicchetti te si chi è che non ce l'avevi i clicchetti a cazzo i clicchetti erano quelli erano praticamente animali che c'erano praticamente a metà corpo e la testa fatti coi magneti no i clicchetti i clicchetti clic clic i clicchetti e praticamente erano dei pupazzetti magnetici con delle parti che erano attaccate col magnete quindi gambe testa il corpo no così e tu li potevi mischiare quindi potevi fa metà zebra no mamma mia io ci andavo un fissa da piccoletto con quelli allora brunzo dice i micronauti no i micronauti erano una cosa seria quei robottoni e tutto quanto quelli che assorghiavano a jig no quelli che dico io erano degli animaletti animali dai ma sei una star leone e zebra che erano fatte le patatine esatto quelli delle patatine bravo bravo vedi allora ragazzi vogliamo per air type nove e mezzo va a far culo andrea vai a fare in culo eh ma qui oh ma senza potenziamenti ma come fai dai cioè è quasi impossibile non devi sparare più cioè te devi concentrare soltanto a schivare se non c'hai potenziamenti diventa una cosa ma perché non ha messo il record perché non ha scritto il nome eh cazzo me frega ma no è figo però scusa scusa dai fagli la rifasta a partire così scrivi il nome allora va di lei turricam sì allora sei sentita no aspetta allora guarda no tu lo puoi fare salamander bello bello salamander è uno spin off di gradi esatto allora salamander version version jjjj version j vai version 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 j allora mi versi un j mi versi un j esatto ciao pabli buonasera a te ciao pabli tarto come va bella condorone madonna santa mai fatto spisa oggi guarda mamma mia oggi stava dura è veramente dura questo già lo stesso sistema no 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 quanto aber secondo quello che prendi si 8 poi ragazzi manca 29 minuti esatto molto poco molto poco molto poco oh porco mamma mia modo esatto ma perché ma ci stavano i bonus la perché sono morto quei bonus ma va la pesca ai parto maledetto no no si acqua che questo è meglio non sparai e dai mannaggia eh vabbè ho capito acqua ecco qua ma qui ci sta l'occhione ah no il cervello qua c'è cervello cervellib e ho capito neanche straborco dub beh ma chiudiamo colpio nel proprio con l'attore l'attore lo calocco mazzano colpo io devo dare ma diventa verticale beh ma diventa anche impestato a livello mamma mia infatti guarda se piassi in corpo para papà quando piano so odiosi occhi ma eh papà non so di lamenti di sofferenza veramente eh ma eh ho capito ma come fai quando ti incasti non ti dà più non hai più che a di scampo esatto ma che cazzo fai porco il limonio oh queste flashate ti manda vedete eh te sta te sta sta te no l'ho lisciato porco ma che era un buon Harry eh sì eh sì lisci eh mi spiaggia lì sapete lì 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 potevi ricciare gassata esatto nicotto ci mancavano un'impregazione ideale occhio al prossimo giro ma perché cambia no no che devi stare sempre in un angolo che lui si abbassa leggermente di più vedi oh cazzo lo sa ho detto come cazzo fai ma 19 astronavi già ma infatti sì ma com'è non so ah ogni credito ogni credito è ah beh è un cino ogni credito un cannoncino cioè la vita canoncino sfida e a me ogni tanto mi scappa sto 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 slang regabbia della sien che bello qua le sfiammate che si ma sto tremendo occhio no no di giochi bellograficamente certo è sì molto bello madonna qui mi ricorda molto darius sì comunque non ti dà tempo di schivare infatti anche lui darius è abbastanza impestato come gioco è molto molto punitib ma questo questo di più sì fidate fidate a darius te la giochi a darius te la giochi perché comunque sia c'hai un po' di tempo e c'hai più spazio di manovra qua no forse poi anche quanto piaccio non conosco il gioco io magari secondo me poi la navicella è lenta è lenta è anche vero che tu non hai preso non c'hai potenzialmente c'hai capito la vita con la sfiammata è impossibile al di vista basso no perché non ti avvi non ti avvi non ti avvi sa al drago di comodo che madonna il drago di comodo scarripe che cosa ammazza è brutto si muove malissimo giuate poco mamma è fido quando mori dai che sta a diventare russo mamma mia figo l'effetto della rotazione molto bello torna a vertical e dai morcazzozza oh mashtardo e che caspita eh eh no di pia allora nipio votiamo per salamander nipio che è una parola giapponese in realtà nipio 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 parlando di sfiammate l'ho fatta una adesso sopra a cacca la divano bene 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 tutta salute tutta salute eh dai però ma che è oh ma sta a vedere ma che è e su ma non è umana una cosa del genere allora io gli do un 8 sì non dè più però perché è troppo impestato questo se ti c'incasti però impari fidati che ah sì sì no bello è bello eh però ha molto gusto però è tosto sì eh come tu ti spara tutti belli non esiste quello facile dai c'è non deve essere facile poi sennò però deve essere giocabile nel senso però così è frustrante è quello cioè nel senso questo non ti dà a modo che dici ok perfetto sto posto sto punto se io faccio così lo supero no non ti dà sta sensazione capito vedi guarda è andato avanti a giocare la prima partita tra virgolette cioè poi ti fa rispaunare nel momento dove tu muori ed è una cosa tremenda perché non ti dà non ti dà modo di studiare la situazione no invece negli sparatutto dove tu muori e ti fa rifare praticamente il pezzo dall'inizio magari riprendi anche il potenziamento riprendi anche il potenziamento e no vabbè dai ma è impossibile cioè non però è anche una versione d'abitudine cioè se tu parti col mood che sai l'impostazione che ripartirai nello stesso momento in cui sei morto è più difficile però perché c'è l'ultima vita 29 vite è finito che muove 29 vite allora no da 8 e mezzo scendo a 8 no se abbiamo votato Marchetto che vuoi fare come secondo quello che vuoi dai scide orizzontale aspetta posso posso darti vai tranquillo vai tranquillo fatti mister elli bello si 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 mister però si chiama la versione occidentale si chiama chopter qualcosa no ma se trova mister elli se non sbaglio si si però mister elli è quella giapponese se vuoi giocare c'è anche con l'occidentale no 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 giappa tutto giappa eccolo mister elli no no daibuken no daibuken questo si si però ce l'hai anche nella versione occidentale che si chiama mi sembra chopter non mi ricordo esatto ma ti risulta che io gioco cose già occidentali ma quando mai le cose giabba le cose giabba giabba the heart allora che mi è ritornato un mento questo giugno eh si è molto bello molto divertente uno eh ma già no in due si gioca uno per un cioè uno alla volta ah ok ok eh butto un 4 aspetto sbagliamo perché butto un 4 eh penso che sia una scheda generica no si si ah ricordiamo che Ale non sa chi è giabba esatto giabba the heart vabbè no forse si giabba the heart forse si dai ah non lo so sento del silenzio assolutamente non lo so non lo so allora io ho visto una conversione fatta per il commodoro di questo è fatta veramente figa però posso dire è roba di star wars si 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 avanti altri spavano in continuazione brunzo però veramente mi cade così non riesce a premere tutti e due contemporaneamente no c'è sì riesco però questo su pc in se usi l'out of fire diventa una figata mondiale perché abbande la difficoltà da più sfizio però preme io sì però siccome è un delirio sto gioco cioè ci sono una marea di nemici una marea di roba da colpire tu abatti il dover premere soprattutto su un pad che non è poi un arcade stick un miliardo di volte entrambi i tasti contemporaneamente perché qui devi praticamente sparare sempre entrambi i colpi insieme mettendo l'out of fire diventa veramente una giocabilità unica ed è fighissimo perché ci sono una marea di nemici poi da uccidere per cui ti è sfiziosissimo il fatto di uccidere tutti poi più prendi lo sparo ciccio più da gusto sì sì assolutamente sì eh ma questo è un tipo di gioco è un tipo di suo questo cioè è giusto che sia così non so se su 64 si possa giocare in due ma non credo però no ma questo è anche l'arcade non si può giocare in due contemporaneamente ah alternato? è alternato ah è vero sì 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 perché infatti non c'hai lo spazio non c'è un no infatti è troppo un bordello bulldo ah no ma poi come gioco vedi power up è concepito proprio per essere giocato da un player sì graficissimo è stilosissimo è proprio bello raga questo è veramente figo poi divertente da giocare un bordo sì anche se di fit levalo no 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 questo è un po' di atto stissimo amici amici allora ci posso dire amici in cazzo ricordiamo che l'abbiamo fatto tutto eh l'energia grande poi vai avanti perché sennò sì questo l'abbiamo finito questi engine l'abbiamo iniziato e finito voglio troppi sordi ah no voglio troppi sordi no è la PC è comunque una conversione fedelissima bellissima ah pensavo no pensavo il tuo arcade è uno dei giochi più fighi che mi sono comprato secondo me questo è veramente figo sto gioco mamma mia sì molto bello e poi ti da sfizio a giocare l'unico problema è sfiziosissimo sì l'unico problema è che sei talmente avvelenato che vuoi prendere tutti quanti i soldi che vai a morire e quindi è che li devi prendere però purtroppo ho capito perché sennò eh però hai visto io prima per vedi io per colpa dei soldi perché voglio via tutto mi incastro e mi ammazzano mi ammazzo guarda mo eh guarda mo che finaccia che faccio qua vedi occhio occhio malocchio papà 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 missile messo alla bayeri dopo da che ti è a ieri vai è rimasta veramente no non fate la battuta no 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 ho detto è solo bayeri troppo che ti sta tranquillo papà parà papà parà papà parà papà già tutto tutto allora quello 200 quanti anni e 120 ancora niente adesso adesso qui le tiri giù un voto quello da 200 di no a lei c'è il capitolo di mangiare di saspervo vio alessu ma io prima sono morto a guarni vai 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 c'è tutti i nemici per spavere distrugge tutto madre di dio di piedi via di via lì quello ci dà l'energia 300 papà parà papà no 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 perché per torna su per chiesa vedi che fasto la spi di gioco ti attira e sì sì vero porca sussa porca non è che io parega vado così si poi stai prendendo pochissima roba quindi è tosti e lo so però c'è adesso andiamo a uscire che non te lo ricordi è difficilissimo allora votiamo intanto grazie per mister cari che facciamo a dire sto gioco veramente incredibile io sicuramente sto livello non mi ricordo ma stonda abbraccio e gna gna continua 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 ma qui dovevo andare io qua da sinistra a sinistra una volta che arrivi di in basso devi andare attiva batti affiglia a sinistra no ah no pensavo trovato e quale no bisogna cominciare dietro scusa 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 e quasi al basso e se lo boss papà parano che rompi i coglioni questo è lo so che poi tra l'altro c'hai lo sparo che c'ha una gittata corta eh sì devi avvicinarti c'ha uno schizzo un po corto quindi esatto papà parano alla forza ragazzi votiamo per mister questo qua a sinistra sì sì darei un 9 io darei un nuovo a questo ragazzi perché veramente sì sì anche per me 9 9 è stato una città mia c'è qualche da sotto 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 ma dai non posso vi allo erano 100 del 100 che bisogna fa qua come sparenza per indietro occhio poi è figo perché avendo un doppio sparo turbos poi scegliere di affrontare mai a fare in culo in modi diversi esatto o frontalmente o utilizzando questo sparo qui poi dipende naturalmente anche con quanti potenziamenti ci arrivi è perché si rende pure quanto pippa io non lo conosci non te lo ricordi ci stava a tostissimo sto gioco però è una domanda di stimola andare avanti capito il tempo astra il gusto di aperta perché proprio figo bravo a differenza di invece dei salamander prima che comunque si è frustrante è difficile e non te dà voglia di andare avanti questo sito di solito non pulisce il vato e si pulisce da solo e stimolisce da solo questo però vedi nelle fasi in cui stai fermo ti dà modo di cioè c'è la parte estetica del gioco che è molto attraente c'è la manca lo scorrimento comunque per cui o a passare di quattro i soldini qua per ora non ti basta lo stesso eh no no mo ballari la fara volta però prendi solo l'energia della seconda che la mano della modella aspetto è ma l'energia è quella che serve guarda che sto zero grazie destini per l'apponamento niente per 20 qui se riesce a far con niente vai leggi rispetta e vedi no non pensavo riuscire a far comparire prima toni su in alto no no ma ti scompare quello per cui niente fatto apposta stardo comunque a me mi pare che sto il charter design di sto boss è uguale identico spiccicato a cosco come caspia si chiama bella simoni grande allora secondo me c'è ma sui stessi di atopic robo kid questi nove no non credo perché il boss è uguale identico spiccicato mamma mia c'è che sono infatti vero e dai no non è però è lo so eri perché perché niente addio addio è finito tutto credo di sì credo di sì è finito tutto è finito tutto è finito tutto è finito in 700 come faccio con la dai ma va benissimo così sono soddisfattissimo di questa partita è bello nove e mezzo bello bellissimo sto gioco sì molto figo sì sì allora facciamo fare e poi io posso da benissimo nove e mezzo pure questo se io ho dato nove e mezzo air type posso da benissimo nove e mezzo pure questo perché sono due categorie completamente diverse pur essendo entrambi gli sparatutto orizzontali non se non 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 se vanno a cozzà cioè non non so uno contro l'altro no non cozzano non cozzano diciamo anche esplorativa che si no è un altro per cui sei tu che decidi molto spesso dove andare che strada fare è un sottogenere questo giusto eri ma io direi che è uno pseudogenere è fattuale fattuale è fattuale allora a spiet che devo fare una cosa un attimo allora dai che ci siamo eh ciao simoni super simoni ricordiamo che simoni alla all'età di 6 7 8 anni era uno dei bambini che facevano le pubblicità dei trasformer per la jig ricordiamola questa cosa importante eh devo pensare che aveva 6 7 anni era un trasformer era un trasformer lui praticamente è colui che ha inventato scorpion del della della jig quindi colui porca miseria allora io c'ho guardia però io c'avevo guardian allora ma mi dice ma ce l'avevo anche io guardian guardian è io ce l'avevo anche il catalogo mentre 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 si arriccia la barba si massaggia la barba ma ce l'avevo anche io guardian allora grazie Alessio per l'abbonamento allora ciao Alessio grazie allora a Harry gli facciamo fare della Icom 1995 1995 Pulstar bello Pulstar altostarello ciao Robby è riuscito a far partire Virtua Racing con l'ultima versione del MAME grande ma Virtua Racing è già emulato bene da un sacco di versioni del MAME oh Silvietta buonasera ciao Silvia ciao Silvia buon suau niente già se ne va perché ha dato già buon compleanno a Andrei e buon suau niente così grazie grazie la tua sfiga no è vero vabbè la cavala la cavala ciao vai questo ragazzi è Pulstar lo sta giocando Harry vero yeah allora questo qua è un clone spudorato di R-Type con gli steroidi e la sound bank che sentirete dentro a sto gioco esplosioni, rumori vari sono tutti quanti presi da Gundam dalla storia di Gundam stavo a vedere è gufetto sto gioco è tosto allora ragazzi mancano sette minuti grazie Denise grazie per l'abbonamento grande Denise sette minuti vai al compleannone esatto votano cinese esatto allora auguri 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 questo è tanta roba bello questo sì molto mucho gusto mucho gusto gusto no ti hanno ammazzato c'è Gundam esatto no hanno ammazzato Harry carugna sì 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 ciao Roby questa blazing star li ho sulla PSP gufetto blazing star pure tantissima roba è molto 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 bello però nei livelli più avanzati diventa impossibile è veramente forse che abbiamo un hype train in partenza raga eh 93% addirittura prima chi era no è l'orsetto l'orsetto scusate lo devo tenere a bada allora ex quella che uso io adesso è la 2,48 versione Mami versione Mami chi idea esatto cos'è che versione sono arrivati Ale lo so a 261 eh lo so ma tanto si no poi funzionano altri giochi che non ne funzionano altri che prima funzionavano no no funzionavano tutti no 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 non vengono tolti i giochi vengono aggiornati i ROM set e tu devi scaricare l'aggiornamento del ROM set ho capito lo so infatti è una rottura di scatole però si si io ultimamente ho trovato un sito dove ovviamente non ve lo darò qua non perché non è possibile dare siti no 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 però no non lo darò però è figo perché Google comunque si è vostro amico eh c'è un sito dove praticamente vi trovate gli aggiornamenti delle ROM quindi non sono le ROM ma soltanto degli aggiornamenti che voi dovete sovrascrivere esatto ai file zip che già c'avete e vi adatta il file zip della ROM che voi c'avete prima per esempio da 2.41 alla 2.61 alla nuova versione quindi vi funziona allora mi bannate a passerotto per favore no passerotto eh l'ha detto l'ha detto eh niente allora intanto ragazzi votiamo per eh pool store dai ci siamo questo è molto bello raga il problema è che è troppo 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 copiato da da airtype secondo me quindi io non me la sento e dai è un voto altissimo io gli do un 8 e mezzo a questo ma io pensavo 8 no no vabbè tecnicamente questa è tantissima roba grafica animazioni è tutto è tutto ai massimi livelli qua però è troppo copiato è troppo una scopiazzatura pure i boss i nemici sono copiati non ti piace no avrei preferito qualcosa è bello eh intendiamoci non è che ah no non c'è gioco no io c'è gioco però grazie Bru per l'apporamento grande Bru preparate i fuochi d'artificio ma vado ammazza che i fuochi d'artificio oggi da Condorone non lo so quanti non ho sentito è lui che ha scritto infatti vedi a otto anche per Brighiello oggi a Condorone abbiamo fatto giocare a top banana si vai ragazzi due minuti e mezzanotte vai effetto morfing è il figo c'è comunque tanta roba a sto gioco però otto e mezzo non d'è più Harry ma ti piace? eh x pareggio occhio beh non è impossibile da giocare dai c'è no 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 assolutamente per riuscire ad arrivare io fino a dove sono arrivato vabbè mo addirittura io sono un cane sti gioco che mi ha detto un minuto un minuto beh fa sale l'ansia c'è un minuto un minuto capodanno 10 eh non ci facciamo fatti dovevo mettere è vero allora 23 e 59 vai 10 9 eccolo a me è scattato adesso auguri allora auguri Andrew tanti auguri Andrea buon Natale buon Natale buon anno buona Pasqua anche mi raccomo importante il Ferragosto tanti auguri ecco quanti auguri guarda quel auguri Andre tanti auguri ázio Ну sia c'è nemica perché praticamente c'è stanno c'è stavate tu Ale c'è no Ale e P che stavano a giocare se non mi sbaglio io faccio e dietro e dietro sì tu stavi dietro con questa copertina addosso capito era un super lato grazie Simoni la copertina di grande grazie ragazzi grazie a tutti tanti auguri Andrea grande tanti auguri adriù che bello tanti auguri a te oh me raccomando la macchina subito subito devi scrivere scuola qui da stamattina porca miseria io a 18 anni a 18 anni e un giorno mi sono andato a scrivere subito immediatamente che bello in mani Alex che è costruito grazie ma è bello ma l'avete vista quella con cosa con Darth Fener no? sì sì quella con Darth Fener è bellissima grazie buon compleanno tanti auguri buon compleanno siamo contenti di festeggiare questo compleanno con te e tu sei contento di festeggiarlo con noi io sono contento di ogni minuto che passo buvi 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 ti fai venire dire eh Nico salto del video sono 180 come dice Dionizio ne faccio 44 esatto siamo matematici andando opinion però io conoscevo uno una volta che faceva il figo che lui moltiplicava i pesci camminava vado e qua faceva il coraggio poi però 33 nana pupì arrivederci capito noi siamo ancora qua come canta il buon vasco quindi siamo ancora qua veniamoci allo stretto grazie grazie a tutti e già bravo grande Andrea vai vai così comunque è inquietante la copertina la cassa di birra essere vicino la stappiamo la bottiglia facciamo un po' di bollicine ma il cazzoso ma si io faccio un amarino faccio la mano facciamo un po' di bollicine dai amarino 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 gradisce un calito gradisce un calito di bollicine no no io sono aspetta sono come gli disse Will aspetta invece di astemia sono no analcolica analcolica sono analcolica mi schia esatto orca allora brunzo se volete entrare su disco per fare gli auguri Andrew esatto brunzo melo condurone zuc vabbè condurone mi sembra il minimo dopo tutto il bordello che ha fatto oggi allora quanti sono dice bruce a rifacce 44 come i gatti alla mia ragazzi la salute alla chi è bruce siamo a 44 a 44 44 auguri mister ambrea auguroni grande melone grande melone grande allora c'è sta p dov'è dove si sta piso la chat c'è pippone anche super pippo grande pippone scrivi caspita scrivi eccolo ciao p ciao pippone ciao bello di casa ma ho salutato tu vuole fare porca zozza che bello che bella ciao pippone che bello dai ciao pippone dai grande pippo porca zozza grandissimo grande allora zuc vediamo i risultati per la serata e poi dopo dà mister Andrew a scegliere come i risultati per la serata già è finita se sopra quella copertina ci scrivi un cartello cosito ho fame senza l'acca davi un ho tre fili dove si diventa senza tetto riguardo ma no bj manchi dei porco due ma anche qua porca zozza dai ciao simo buonanotte grazie buonanotte buonanotte io rega che continua a facciare con la mano pure io pure io allora scriviamo a vana alla vana no ciao simo buonanotte ciao grazie la foto di sinistra con la cassa di vino l'abbiamo finita tutta in una live credo si mancavano tre bottiglie tre bottiglie l'ho messo a quattro perché di fianco a te di qua gerali ah ok e quindi l'ho dotto capito per quanto se continua così fra qualche anno la farà lui la foto con la cassa di birra esatto buon compleanno andrea però lì dove c'è scritto andrea no andrea che è sto andrea troppo formale pensavo pure mister però no vabbè mister poteva essere chiunque chiunque mister adesso c'è pure un po' di mister perché comunque è un signore 40 anni io sono basta da diventare ser esatto ser 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 allora aspettiamo un attimo la classificona la classificona ma scusate ma l'abbiamo fatto uno sciottino aspetta scusate perché io poi vai zu allora sciottino al p che sta a tornare poi grande pipone condurone briello condurone ciao chi c'è buonasera a te e chi chiamerai vincenzo ghost masters briello andatevi a scrivere pure da briello regà perché fa belle live andateci 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 allora grande allora zucchi di gel ecca la classifica vai aspetta che levo la musica ti levo la musica vai tu abbassa vado arcade spara tutto laterali vatti serio koutetsu yusai stral 7,2 x multiply 7,2 mystic riders 7,5 chukataisen 7,5 sexx 7,5 cotton 7,7 insectorix 7,7 salamander 7,9 zero wing 8 androdunos 8 un squadron 8.1 pullstar 8.1 allora zucchi dice ho tolto airtype 9,1 avrebbe vinto facile beh ci sta ci sta ci sta ci sta dai per una volta io sono d'accordo ci può stare ci può stare sì 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 perché tanto c'è voglio dire tanto c'è allora non c'è speranza abbandonato di speranza ho voglio entrare niente bruzo volerà condor mannaggia bru allora ce ne sono altri zucchi o parte il sondagione con questo le sondagione fare il faccio Andrea parte il sondagione ma rito perché stavo pensando la stessa cosa ma quella quella capir è bellissima c'è la soddisfazione bronzo dice che ha trovato un grosso lucchetto davanti e non riesce a scassinarlo ma com'è possibile bru aspetta fermati no io ma pulizia pulisci ma io non lo vedo online però aspetta non è che adesso per forza online ah ok che cazzo oh ma io che ne so ecco 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 aspetta condor aspetta condor ti vasci entra vai condor on Kenny ma Andrea dormi brunzo è a posto condor ok allora condor ok votiamo eccoli radios scramble 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 auguri Andrea grazie grazie brunzo grande ciao b buonanotte grazie grazie b ciao pippo ciao pippone grazie mille un abbraccio ciao pippo ciao pippo ciao super pippo allora sondagione gradios scramble no non ce lo facevo scramble alla finale scramble scramble messo rale perché parco dio parma ma ma messo c'è bisogno di vestigliare no non l'ho detto cosa hai detto ho vestigliato no no non so ormai o io le sento di default o tu le dici di default tanti auguri grande grazie tanti auguri grande grande allora andrew scelghi lei scelgo io 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 vorrei fare due trip almeno completi a tour in cana a parkland perché sono e ci sta l'avevo promesso quindi ok ci sta no no ci sta due trip completi ma che vuol dire due trip completi sono due viaggi sono otto livelli otto livelli otto livelli gliela posso fare beh certo che ce la puoi fare o puoi anche finire siamo qui fino a dopo l'interigio no 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 non chiedo tanto però otto livelli penso che se possano fare guarda la gente com'è qua la bruce si ma che maledetti guarda siete veramente cattivi comunque dai si questo è karma per avermi fatto giocare a top banana dai che tu te sei divertito oggi dai dai ammettilo è brutto ma è divertente si si dai dai ci può sta allora leviamo sta merda qui sotto perché devi tornare indietro due volte praticamente no capito devi tornare indietro due volte per fare due trip allora vince Gradius con 8.4 Scramble scramble con 8.3 e Mr. Eli a pari merito quindi 8.3 e beh ci sta è giusta come classifica ma scusa ma scusa è le type escluso vabbè ma io vorrei capire Andrea ma lo devo fare con un credito solo no si 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 ma che è stata scherzata ma che siete matti no 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 ma un credito solo non ce la posso mai fa beh 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 ma io sono una pippa una pippa arzuco io a giocare qua ma che vabbè allora nessuno ti dice di farlo con un credito stiamo scherzando ok ok però però starei qui tutta la notte dai Bruzzo due trip io mi faccio molto volentieri Bruzzo e Condor entrate anche su Parsec aspettiamoci subito immediatamente bella Condorone si si grazie Denisona un abbraccione grazie mille ciao Denisona grazie mille no Denisona veramente l'unico problema Denisona è che sta con Bruzzo è un grosso problema è in senso buono arrivederci Denisona certo ovvio arrivederci scherzo ragazzi scherzo ricordiamoci perché Bruzzo è il tesoretto nascosto di un milione di zenni è vero giusto vedi allora va il tesoretto si un attimo che ancora è un attimo il cazzo ok allora allora come era qualcosa Nino è l'amico del no non si dice no non si può dire allora posso chiedere ecco qua ciao Zuc buonanotte grazie ancora ciao Zuc mannaggia bisogna di meno bisogna di lavorare lavora 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 bisogna di lavorare di meno coglione c'è la valla vai Zuc no ciao Zuccherone c'è anche una fine jump no jump niente scusa esatto ma sai che si sta appassionando da morire a questo gioco io backland ciao zu perché le ha detto Marco Turrican no perché non so dove e ha beccato uno di quei tipo in un centro commerciale beccato uno di quei di arcade one up no che ci sono un po' blu allora saluta vorrei segnalarlo alla direzione LUL me lo saluta saluta Matando Matando sei te che non leggi bene la chat ha capito ha capito becca vestito spicci hai capito ha Matando ciao bello ciao Zuc buonanotte ciao buonanotte ciao buonanotte fa l'urmanezza che gli posso fare gli posso menare stretta niente esatto importante che non faccia lo smergia è il prossimo questo si idrante da tiro il famoso da tiro ti puoi prendere col cappello questi si vabbè però io preferisco no preferisco e preferisci evitarli esatto no ce ne erano i tuoi a te lord cappello attenzione occhio sacca ma via via so verde oh con i galli ma via 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 ma non li fate perdere esatto mille e uno è andato che è meglio che è meglio che è meglio di zero tu rican si esatto questo mi indietro no no vai tranquillo vai tranquillo va via via ciao zarro non è che non mi piace è che non ci sono buono i platformini non sono il tuo tu rican no questo questo è il primo vai avanti secondo perché ma perché ma però vi dovete mettere d'accordo perché mi fate venire la cosa me la meningite cioè uno mi dice lascia me la meningite mi fanno bastante porca miseria a bru di qualcosa di ma no io vi voglio proprio godere come stai giocando tra l'altro non devi neanche fare tanti punti non c'è una esatto esatto salta esatto ho salta ho salta ho salta ho salta lui salta prima ho salto ho salto capito ho salto io dalla sedia comunque no mamma mia in mezzo al proprio questo piedistallo qui se saldi lascia un fiore qui salta dritto eccolo qua p'indietro eccolo lì hai capito il fiore il fiore è lì oh ciao mister reaper ciao mister reaper ciao mister reaper senti che peccato fra un po' papà papà guarda guarda muo ciao 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 questo indietro indietro ma perché indietro questo questo indietro guarda se me fate morire perché devo dire questa è l'indicibilità vai c'è per in cazzo occhio però destra sinistra niente tra un minuto come me ti puoi c'è la grande l'altro ricano spavato invisibile invisible ah mister reaper grande ti chiedo scusa per brunzo per quello che farò non per quello che ho fatto ah pure guarda che sei quasi pronto per fare le speedrun di questo come no durian si si ben dato le speedrun ben dato ma dai avete visto che un professionista è questo gioco dai eh se l'essere se l'essere se l'essere se l'essere la vita la vita si vada a morire prendo la vita ne perdo uno non vorrei sentire questi mamma mia adesso non c'è più il cappellino eh grazie a Davide Fatboy grazie per l'iscrizione ma niente a me come li casa e come li casa parlo un mese parlo ma ha dato il cannoncino no non mi ha dato il cannoncino ocio ti ammazza quando vai ti dai il cannoncino si mi ha dato il cannoncino 30.000 niente non saltavo ciao Davide buonasera buonasera ciao Davide ciao Davide ciao andrei fai una confusione porco due allora uno uno due ecco qua che è arrivata a casa niente bravo mamma mia forse è la seconda dai perché questo qua ha saltato hai saltato più vasto ma no ma mica posso scegliere un'esaltare però adesso non te lo dà più il cappello sei morto attento come va il turicano comunque si vede che sarà studiato a casa dubbi hai giocato questo quattro ore al giorno sotto le vacanze hai saltato dai dai 300 perché mi devo adesso non mi dì niente sono venenato con il turicano dopo ti parlo dai vai in chiesa c'è la chiesa anche esatto oh ma che sto la fa destra a sinistra destra a sinistra bravo vedi no non vai via faccio mamma mia aspetta fermate fermate un attimo fermate niente ok perché fermate via ricorsa ma era già del ricorso non mi hai fatto capi niente era già del corso ma niente ma non è lui era gondor ma come chi è che l'ha detto gondor niente via faccio niente io l'ho fatta mi dispiace no turicano eh ma l'ultima l'ultima cosa perché se no l'avrei avrei fatto gioco del merda comunque però eh dai su ma che è allora Andrew gioco per Harry eh gioco per Harry possiamo possiamo saltare da una piattaforma all'altra così mdm mdm si mdma allora merda di merda esatto io eri ti farei fare un mission impossible su 64 bello tanta qualità questa però un po' cosa voglio poterti pisciare sui computer un po' cattiva eh si c'è un po' di cattiveria devo selezionare un po' non è che posso allora aspetta aspetta allora che padrone siete stasera quindi telegram condor che cazzo sta di mister Andrea esatto eh confermo sono telegram l'ha detto eh si salve sono telegram allora allora 60 minuti 60 minuti allora 60 minuti giusto sì schiacci Harry e al minuto niente schiacciato 60 secondi bravo allora e due allora e tre vedremo allora Harry prima che vai via avvertimi perché vi voglio far cantare vorrei vorrei che cantassimo tutti quanti insieme una canzone sulla Befana di Bono Spice quindi avverti perché mi farebbe piacere se la cantassi anche tu con noi ho azzeccato pure tutti quanti i congiuntivi non mi rompe di coglioni allora il primo Andrew sì sì esatto secondo mi piace di meno cosa sta succedendo non so grazie Andrea poteva andarmi molto peggio per farmi giocare a beh so che 64 ti piace aspetta aspetta potevi farmi giocare a è molto peggio ero partito in sessione a Terry che ti avrei voluto far fare R-Type lo sapevo poi dopo l'ho fatto io quindi allora sarei durato a me piacerebbe vedere giocare a Gradius perché non credo che ci abbia mai giocato sì sì l'hai fatto l'hai fatto l'ha fatto? no a me pare sì sì sei sicuro mo tu dici così perché vai schivare la pallotto la via la via stai a far stai a far paraculo 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 no non me lo fa di più perché poi divento volcare allora ho perso la sensibilità ma la lascero contusione come sta Harry passero a scrivere quei messaggi cioè tranquillo senza problemi però evitiamo che è scritto ma niente niente di che è il nome di una cosa ah ok che è meglio non scrivere ma mica perché non ci sono problemi solo che rompono il caso per non si sa cosa per cui è il solid algoritmo che è esatto esatto Harry che stai a far ok quello è quello che è lo trucco per un picciare in pace voglio vedere ma così per un viscio che scende quando piscia sui computer ma manco esplori però no bello è riflessa questa sera una questione della sera allora io direi pure che commersi di Harry Massa esatto non ci sono più Harry piscia su qualche computer però eh ma cavoli sono i livelli più difficili the west se devo capire che cazzo devo fare il problema è che comunque per superare sti cosi che danno le scosse serve pure una prontezza anche del gioco no guarda come piscia sull'ex della adesso morirò gloriosamente nella notte vado giù in fondo avete ce l'ho fatta cammino mentre stavi pisciando sul cammino Harry la pisciata sul cammino quello sopra lavandino voglia gli andai di qua guarda che bastardi che sono vado di là lui mi segue io vado di qua e lui mi segue eh li devi bloccare li devi bloccare tramite il terminale niente terminale oh vabbè no vabbè oh ma c'è i livelli più difficili in assoluto mai accaduto procedurale questo io non lo sapevo mission impossible ogni volta che inizia una partita è diversa non lo sapevo le stanze vengono create in modo procedurale create le stanze sta finendo le stanze sta finendo quindi poi anche disattivare questi ah si ci sono dei terminali in cui tu poi inseri un codice lì disattiva o merite anche tu puoi girare per i 2000 livelli pisciando su qualsiasi cosa vero bellissimo temporaneamente c'era poi il fatto che si siano inventati una barra del piscio che si consuma mentre tu stai urinando senza una barra del piscio è clamorosa ragazzi no niente perché 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 so bristardi perché è impossibile sto gioco se non avrebbero chiamato mission possible no invece impossible è vero ma è piscio un po' in piscio b niente infatti livelli proprio facilissimi cattiveri assoluti la stessa partita sì esatto vice non lo sapevo oh niente proprio non ho capito allora pure vice dice mazza ha beccato una partita facilissima per fortuna security terminal esatto tanto la voglia di pisciare bene 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 adesso puoi pisciarli veramente ok vai niente mica per sempre ma perché sono ti fermi perché ecco no grazie per i ride club della tovaglia grande club della trovaglia grazie della della tovaglia grazie del ride grazie grazie ragazzi facciamo di subito uno asciutino abdo mi sono incestrato grazie 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 lo sai madonna guarda guarda che dice sterstrilla fai finita porca miseria guarda adesso vicinità c'è non si perde la palla pazza che strumpa lazza quella è levide non fa come il simon in a devi pisciar intermitenza esatto non so se fa bene la viscita questo rilassarsi e poi incontrarsi nuovamente non fa bene no no nothing 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 fate che c'è sto tipo che mi rompe le balli sopra ciao vincenzo ciao ciao vinci ma vincenzo ah ah allora Andrew chi vuoi giocare e quanto che stia ma scende quando volete è stato a giro giocate tutti ho visto come girano le palle vengono le palle valla come giro abbiamo il turicano ara aspetta ma hai visto che numero che fa il turicano appena ha giocato ah gli fa tutto il marchio ho fatto è incogliorito però vado alla me però ma no il condor condono mi fa confusione che ha giocato ha giocato ancora io quella caretta no della sera ecco di solito sinistra con questo livello è nada vincere è questo livello di limiti dove puoi pisciare vero veramente su tutte le cose ma la palla non c'è la palla è sotto il palazzo guardi ma la palla c'è la bianca ah posso che blanche arriviamo giudente chi vuoi farmi senti a te a te a te senti come ride già no perché potrei proporre uno street fighter 2 ma sarei veramente infame sai cosa ti faccio fare invece cambiamo nuovamente piattaforma andiamo su super nintendo e ti fai un super mario world eh però tanta qualità allora ho capito c'è di vista è stac da che poi dite no mi tocca mi tocca per attenzione perché c'è un airy particolarmente incastrato su mission impossible voleva questo gioco io tocca nulla occhio grande eh no eh la so quel riflesso della sera e quella voglia di avventura voglia di andare un vomito sinistro fatto computer computer niente computer ah è vero che ce l'ho security di terminal come password a ceps vabbè ha fermato a tutti hai visto? eh sì cosa ti c'è l'aspetto password fai poi a fishare liberamente per un po' eh sì infatti fish ovunque quello sull'acqua fisha guarda eh 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 ehm quello là sopra come fai? ma c'è la quattro computer sotto non puoi riloccarlo fisha qui fisha lì nothing year dai quello è locato così? mi ha dato un occhio e ti guarda mamma mia no niente vado un pannotto abifede abifede ma l'altro computer che era in basso a destra perché non l'hai utilizzato? per stoppare ma avevo già fatto tutto eh esatto avevo già fatto tutto mamma mia che livello impossibile quello una stanza impossibile però questa è più lineare sempre un po' a sinistra scusa 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 vai no io gioco il computer niente mamma mia dindò dindò ma perché questo computer qui non quello sotto? perché è più facile dopo devi fare meno strada per fishare candy ok bravo Harry mi piace questo modo di giocare guarda guarda che fishatona ti hai fatto grande nothing mazza che bastardo però no finge che sarebbe guarda lì al centro c'è stata la stanza che ancora non è esplorato vedi so voglio cambiare anche questo è uno dei livelli se gira occhio che se gira la faccia è che stasera lo finiamo questo gioco qui fishata libera questo mi sei quello che mi segue niente in base a cosa sai se puoi bloccare o meno ma quando ho fishato lì mi dà delle password e ce n'avevo un'altra e potevo usare io ci sono avanti con fishate in giro ma nessuno mi ha dato una password in realtà perché non hai chiesto robin messo tu devi andare a pisciare poi dicevi senti ho pisciato che mi dà la password al favore pisci così che se puoi andare a pisciare bene ragazzi tu potrai continuare così a girare tre state e farmi uccidere io io guardo molto volentieri se tu vuoi andare avanti si eh ma non so perché vedere qualcuno che comunque sa giocare bene questo gioco oh mamma mia eh ma lo so io guarda 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 a che porco male r2d2 ma nava 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 vai un bambino che gioca sempre con il valutio non c'ho mai capito un cazzo perché questa è un po' difficile ma avvicinare pure sulla poltrona con un cane proprio un po' esatto ma dai mi contenta cosa succederà che era pipì 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 era più piccola lunga pipì eccola a il presenziero fatti e vi c'è dice infatti oltre a saper giocare devi essere fortunato sennò sono cavoli è vero vero non è il nostro caso no dire di no perché avete visto cosa ha dovuto fare trascendere questo mi seguo mobile 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 a questo ti segue quindi di comere far arrivare il più lontano possibile però è lento e non sprevendo ok lento e macchinoso lento e macchino non spruzza così in giro se la posso fare no non ce la farò mai si si ce l'ha fatto ho fatto zero oh grande eri computer non niente computer? eh computer se non devo fare niente cioè computer serve solo per bloccarli praticamente si si per bloccarli poi ci sono altre cose poi c'è la stanza della musica che deve devi beccare i toni bello tutto nel se ti dà dei bonus tipo ti dà delle cose per bloccare il computer oppure delle perché lo scopo è fare la mappina no qui serviva proprio il foglietto di carta che la penna no? mi pare eh si vedi? ah che figata questo è un puzzle poi devi trovare cosa che puoi girare adesso vi farò cazzo esatto vado io vai 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 vado? vai è stato bello però figo ho giocato così figo molto bello sì bello vedo l'ho giocata qualcuno cosa fa come il prossimo esatto allora veramente stasera va così stasera va così momenti tragici ed è giusto cazzo ridere di due allora abop poi se avessi fatto un picchiaduro sarebbe stato scontatissimo dai ma è molto più spizzicante questo no? è molto più cioè molto più bello da vedere rispetto a street fighter che conosci stra conosci questo è più figo dai Ale è vero no no assolutamente eh ma magari no no allora eh downright downright ok eh la madonna ok allora quindi faccio per Mario World e tre allora speravi che cambiasse idea non ho capito sperava che tu lo dimenticassi sì esatto che ne sai allora mi sono scritto un po' io oggi con gli occhi da fangola la speranza è l'ultima a morire allora su Mario World no gli acni dei fa faccio questo fai europe europeo è uguale già europe è uguale v1.1 però perché quella via giornata vabbè è uguale tanto non durerò tanto eh allora eh beh in un altro contesto queste parole potrebbero non farci esatto allora un play of game vado qua sinistra non vediamo l'intro guarda sti maramaldi da nintendo come hanno copiato già una sister guarda che è una squalida imitazione sì 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 assolutamente da denuncia proprio poi manfred trenzi gli voleva far causa ma nintendo ha fatto leva sulla sua potenza economica e ha capito? pusillanimi che schifo capito? ma manfred viva entrambi fratello e sorella questo gioco de merda papà abdubado di pp oddio guarda che stile che stile sfondale ti prego no no è bello c'è che io vedi ho fond? dale fondano e filano è il miglior platform in due tipi è la storia dei videogiochi no è bello niente da di eccezionale esatto ed è una profondità poi Alex lo gioca con una calma serafica proprio si si adesso ho fermato lì ma perché lo posso no no dovevi entrare qui no sei veramente il peggiore e adesso non lo puoi più rompere con lui è di così sei perso dai lo butti giù lo butti giù lo scoraggi lo scoraggi poi mi butti giù esatto mi butti giù come fosse una bamba occhio mamma mia a sentire poi tu ciao dai 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 vado sopra si ok cosa ti devo dire mi sta avvenendo un'infiammazione al tunnel carpare a guardarti giocare puttana basta pallottolo bill si chiama così veramente no ma dai pallottolo bill pallottolo bill qualcosa dovevi spararlo lì sopra sei veramente ma poi ci dopo ma che cazzo tu dico toko ma no adesso prendilo e a sei strozzo però e se lo dico dopo allora come faccio piano con il tasto la stazione con un cuore più veloce prendi le cose questo sì ti diverso l'alto sopra qua c'è un unico raccomi c'è un unico mattone giallo e vabbè ma che nervoso io sono le chi è che ride allora così e poi su in alto verso l'alto non devi saltare di premere verso l'alto dai che cazzo però ma che cazzo allora basta vai avanti a magista pure il tempo qua no ti guarda se lo ne vanno a qualcuno è però per prendere forse una vita è niente vai avanti va a 18 secondi ammazza il dio boia allora cosa ridere attenzione perché ridere a crema pelle ridere a crema pelle questi sono i momenti magici ridere a crepa pelle si fa pelle chi è che l'ha detto più anche per papà lo puoi rifare quel pezzo visto che ti è piaciuto sentivo al lungo quanto il contento questa cosa c'è della gioia però cazzo allora senti che lo parlano in giù ammirando siamo in reverenda il riverente atteso il riverente microfono esatto non è la fiamma che devi salta intorno c'è lo devi solo voglio lanciare per fatto a destra a destra a destra a destra dio mio via lo porto a destra 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 c'è pensavo tipo che ne so un qualcosa che ti disse l'involverabilità totale globale ma no a livello occhio vai a livello finale esatto è rotto il cazzo però il risultato brutto ok a posto meglio di zero ma di course per fare 40 mi pare il massimo cosa 10 volte tanto piastra diventa i tentati dovalo sbloccare il pulsante già questo è facile non puoi morire che pipì c'è no ma che cazzo non torna indietro non indietro che voglio no poi non puoi non avrebbe meglio del per premio da zero che se emozionati sotto le monettine guarda niente incazzato perché si è incazzato non puoi andare da nessuna parte lì torna indietro vai a destra devi arrivare almeno al primo castello castellib sei reso conto dove è il primo castello e sei bloccato no devi fare tre livelli dai vai meluccia questi te li fai facili ma perché non lo prendi quello come lo fa porto due vedi giaco prete che tu faccia questo non prendo io ero un amichista marchetto vieni c'è te che era un amichista prendi Yoshi è un amichista lui era un amichista allora adesso con Yoshi senti eh guarda per pendolo quando esatto gli dai colpo lui in questo modo ti mangi i nemici oh oh quelle le mangiate passandoci vicino e basta si ma non poi sta andrà per mania la mela oh se ti mangi quello col guscio rosso poi lo risputti e fai le fiamme questo lo risputti così attento che sei rimbalzato in cura ecco questo non lo puoi mai a chi era gondor non fare lo svelto bannatemi posso scendere via condorone bannamo no morello dai no 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 nero via 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 la talpa la talpa la talpa guarda che bella che è stata no 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 la mia la mia di campo in ruota eh notte il cazzo mi sono muoci prima no aspetta che c'era una scala che potevi salire lì è caldo sentite quest'altro no c'è stata una scala che poi salire ma io dipende come vuoi sopra c'è la vita puoi andare dritto senti che roba che spara senti che lo spara si e non sono io questa volta eh no questi qua no gli scendi a sinistra gli scendi a sinistra che prendi riprendi Yoshi è lì che ti aspetta è lì che ti aspetta sai eccolo senti che la musica cambia quando hai Yoshi o meno sì sì o meno o meno o meno o meno o meno no Yoshi o meno 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 hai detto Yoshi o meno esatto eh perché lui ha detto Yoshi allora se Yoshi c'è la canzone o meno c'è in altra canzone ma sto meno di è se vi ancora non si è visto no ma hai provato a scrivere su Yoshi niente aspetta fammi vedere quanto ha fatto senti questo quanto spara ma com'è che stanno sparando guarda Yoshi che passa dietro e va via questi sono i fogli di artificiale curcuma esatto graficamente e come gameplay si Bruce a parte tutto quanto la storia peccato che è nintendo perché sennò sarebbe veramente basso sì questo c'è anche la bellissima versione per amica ridotto il cazzo come no anzi anzi due sì c'è sta Zul tua amica beh e se dovrebbero si dovrebbe ispirare a questo teoricamente ma tu devi passare sopra 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 e invece fa schifo cioè no che fa schifo no è decente però non è mai anche anche su parità è uscito Zul sì 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 e non so neanche manco l'aso più colorato no ma perché il gioco che è piatto di suo sì salti qui raccogli il cazzo devi raccogliere scusate qui lo sputti esatto lo due è il camaro allora non fare lo sveto occhio niente ma hai fatto male pure agli occhi no 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 basta è volato un pad è volato un pad è volato un pad dai mancano due livelli ti mancano ancora che è successo? allora l'ho messo in vocale con il sito internet completo esatto e allora c'è sto sledge HTTPS due punti allora Andrew Brunzo Condor sì 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 ah è Brunzo il Condor allora sì che ti è botta allora no no io farei rimanere che so che Brunzo piace molto sì rimanere qui su per Nintendo gli farei fare Donkey Kong Country che so che lui Prato non piace particolarmente però Brunzo ha riso senti io? eh per non piangere esatto allora perché quale 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 cosa eh quali Donkey Kong il primo ha detto Donkey Kong Country allora hai detto due o tre vai Brun schia ma perché hai detto perché so che a Brunzo i puzzle piacciono? no i puzzle i platform no hai detto puzzle no ho detto platform hai detto puzzle vabbè allora ho detto puzzle forse i puzzle i puzzle per mettere le diagonali ha detto cara ma allora questo è un po' debrucco ma che è è arrivato la terra sbagliato esatto left right up left ci tiemo a te up right right ok buono left right brutto parturia allora il non ti rispondo più Donkey Kong Country Donkey Kong allora donk 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 papapam papapam ciao Reaper bentornato ciao Reaper eh questo pure è tanta roba questo visivamente è una cosa mettiamo qua la musichetta è la stessa dell'originale oh questo Donkey Kong che si vede qua che sta a suonare il grammofono sarebbe il Donkey Kong originale del gioco quello classico perché Donkey Kong di questo gioco naturalmente è il nipote oh perfetto non è neanche il figlio perché il figlio è Donkey Kong Junior quello del terzo del secondo ok mi sembra che il secondo il protagonista è Donkey Kong Junior perché Mario ha rapito Donkey Kong per il genere di cimmie eh sì bene perfetto eh ma il primo castoro al primo vabbè ma lasciatelo giocare magari arriva una volta la seconda volta eh stavo trovando tre tasti appunto comunque c'è il tasto azione che è un po' come Mario se lo tieni premuto vai più veloce ti prende i barili le cose allora questa stazione è questo qua esatto ok adesso è chiaro è morto al secondo castoro stavo ancora provando ce ne sono un migliaio di castori in tutto il gioco eh questo potrebbe essere inizio io non ho fretta guardo salto guarda che faccia che c'è quel castoro no ma quel barino lo devi prendere ah ok c'è un'altra scimmia dentro e per ammazzare come faccio? una scimmia un altro tipo di scimmia puoi usare i barili oppure basta che gli salti sopra ah funziona come Mario che se tieni premuto il tasto azione vai più veloce quindi salti più in alto eccetera eccetera e dai dai però è perché Donkey Kong è stato è cheese è stato cheese ah ok 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 sapevo di aver scelto il gioco giusto comunque eh da devo prendere confidente questa ma quella non si può ammazzare? si basta che gli salti sopra ah ok cambiare ok cosa no bene esatto ma ricordiamo che sto provando i tasti quindi abbiate pazienza ormai riconosco ah ok no io volevo dire una cosa a tuo favore però vabbè niente grazie eh figurati è sempre caro volevo trovare un alibi ma non stai facendo il possibile per rendere mano qualsiasi tipo di alibi oh ok fino a qui ci siamo bello allora se sali sulle palme ho visto che ci puoi salire sopra che succede se segui le palme? eh c'è il percorso sopra dove c'hai qualche altro bonusetto ropetta sono già lettera oh mister river ciao se completi la parola conga alla fine del livello prendi una vita questo lo puoi proprio prendilo rambi 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 rino 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 aspetta bruma lo sapevi che c'era sto segreto lì? ma certo che lo sapevo ah ok niente la voglia è partito da solo niente se ci sono fai nella vita cazzo porca madonna che età si perchè questo gioco se lo finisci dritto lo finisci credo scoprendo il cinquan esatto il cinquanta cinque per cento del gioco in realtà per finirlo che va finito al cento uno per cento questo gioco non al cento per cento devi trovare tutti questi livelli segreti nascosti ogni singolo muro non hai che al cento dieci non al cento uno invece il Donkey Kong Country 2 si finisce al cento due per cento e il tre al cento tre per cento e al cento dieci è quello dei lavori no? esatto bonus bonus il bomb il palloncino oh una vita ma chi è il palloncino? una vita una vita una vita fa una volta è diverso è un altro qui devi riuscire esatto a fermare lo stesso animale ah ok quindi devi calcolare la sequenza esatto proprio così ah come si cazza la piccoletta? si è vero ma l'anima guarda che se tu poi stai fermo lei si toglie il cappello Didi si toglie il cappello e si gratta la testa Donkey Kong comincia a sbattersi il petto e si gratta i coglioni ma sei stozzo Bruno però che cazzo vaffanculo eh ma così lo rifaccio no? così lo impara meglio è giusto esatto esatto ma adesso è buro bonus devi raccogliere quanti più strozzini puoi gli strozzini gli strozzini se vuoi e ripremi in volo il tasso dove è esattamente puoi planare ma che bello questo è un buro la plana ogni cento strozzini prende la vita esatto e 868 poi se vai alla fine prendi il moltiplicatore quale dove sta il moltiplicatore? eh ci sarò la scelta delle aree con moltiplicatori mi parlate quando la fine a destra a destra alla fine del livello praticamente salti l'ultimo ostacolo dovresti farlo adesso perché sennò poi non ti rimane ti conosci da memoria sti giochi ma fatevi una vita anche Bruzzo abbiamo avuto solo tipo 40 anni per giocarli sempre ho giocato sti giochetti ma pensate no sto scherzando ovviamente veramente scherzo ho comprato il giorno dell'uscita a sto gioco capirai era un banalissimo riferimento ai classici leoni da tastiera che stanno sui social che dicono oh poi invece questi manco sanno manco sanno come sci di casa capito l'ho finito con la vita esatto attenzione momento a bruciare adesso 6 pugnetti merita la vita adesso sì 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 mi pare di sì eccola grande pentagono sì sì vero sì però non fa un'altra sennò non ti butta qui mamma mia meno male è il primo livello la fatica l'abbiamo fatta è andato vai è stato archiviato ma anche quando tu ti fermi su un precipizio che stai per cadere ci sono le animazioni opposte cioè veramente è fighissimo sto gioco sta fermo un attimo fermati esattamente color cycling tu sei grato la testa fai il cambio con l'occhio eh vedi lui si batte il petto ci sono tutte ste cose ste animazioni se tu ti ti abbassi con lui adesso ti ha riprenduto verso il basso guarda adesso leva il cappello e lui guarda verso l'alto mi pare no no allora forse mi sbaglio esattamente questo non lo puoi uccidere con lui quando rotola quando non rotola sì mamma mia no la che la che la pia vai occhio ma quanta fatica allora metto adate dietro maledetto più eh sì quella rata la rata qui la riprendi alla scimmietta esatto rotto ti chiama ti chiama ok ti chiama hey tu pratica musica non si chiama non si chiama io già non te lo fa vedere bene no no non ti difetti non trova i difetti bruno difetto effetto è meraviglioso questo gioco che è difetto no non si può è bellissimo è piaciuto oh bravo così bisogna farlo ed ero così affascinato che non ho visto la cosa ah ecco così va bene esatto però la gappa libiata eh dio boi eh ok poi ce va non è la necessità radio però maledetto perché torna indietro rotola ma quella ria se ci salto sopra non la rio la puoi uccidere solo quando non rotola quindi se gli salti sopra la fermi oppure intiri la bomba esattamente così allora ok capito tu ogni trucco del gioco proprio allora Andrew mi dice ma questo sa giocare e andrei chiaramente no ce l'ha il focus ce l'ha il focus esatto ma forse è colpa di emulatore c'è un po' di lag lag ah no no sono scherzo io io non ho problemi però perché senza scarpi è cala ha detto ha detto comunque brunzo quando lo salti come le 86 volte precedenti lui torna indietro vabbè dai adesso se la faccio adesso però posso dire che questo gioco è bello bastardo cioè al di là del fatto che sia bello perché quello è in dubbio ma è un po' bastardino nel senso che tu lo devi imparare proprio a memoria è quasi un laser game per come devi giocare no eh sì qui devi saltare poi ricordate che devi mettere in giù la leva poi qui risalti qui una volta che tu capisci al primo nemico che lui rotola sia avanti che indietro ogni volta che ne salti uno sai che poi tornerà indietro non è che te lo devi imparare memoria come dragon slayer esatto esatto allora marco durian scrive ma lui è veramente incapace ma no esatto no no non è vero io mi dissocio di calcare ma lui è del mestiere e dai boh vai ok occhio qui eh tutta il volo lo devi fare ok eh sì qui ci sono il classico schema platform saldi la piattaforma la piattaforma non cadete sotto e jean grant qua eva da sto punto di sapere estremamente innovativo come gioco questa sarà di là dei bonus segreti è un male ma si chiama di trenza è però è la che non è fatta vedere come non l'hai mai visto prima no che è successo lagone clamoroso il gioco non credeva che sarebbe riuscito ad arrivare a questo che si è andato in crash ha detto no non è possibile qua non ci arrivo più allora allora brutto scrive sì però che coglioni ma no bru non è male dai gioco è bellissimo adesso seriamente se lo impari un po è molto divertente no no ma è bello che si lascia anche giocare non ti credere che sia così proibitivo cioè se vuoi trovare tutti i livelli segreti e naturalmente ci vuole impegno ma ora come cambia lo sfondo e non sapevo mi ha fatto una cosa molto liberamente esatto notte bufetto è un altro molto che la cia oggetto guf guf il barile quello con le stelline ti fa ripartire da metà livello praticamente è un check point turicano guarda come smette la pioggia l'effetto in cui si fa giorno che diventa esce la luce che diventano molto più vivi i colori e soprattutto col fatto che non c'è stanno più gli sprite delle goccioline sembra molto più pulita grafica ma cambia proprio la palette in quel momento allora ciao bufetto buonotte ciao buonotte ciao buonotte ciao buonotte allora più chi rai rubare in mattina la lui no non pensavo che anche questo si potesse no non è per la violenza un armadillo un armadillo no no io non posso di aleo porca miseria vuole sotto copyright alle op e mandina e già e quelle sotto copyright capirai l'avevo finito il livello eh sì eh però si finisce cioè voglio di una volta che ci prendi la mano ti impari a giocare perché qua non riesco ma che bastardo è passato dall'altra mentre passi prende il barile e io lo tiri e otto la rai solo per noi allora è gioco per condurone è condurone va in difficoltà di nuovo dall'altra parte io guarda perché non so bastardo non so cattivo perché sennò sarebbe da fare giocare da fare giocare a iolanda perché oggi ha provato a giocarlo e non ce l'aveva e allora no 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 già già ha provato oggi a giocare a top banana poraccio è già provato c'è all'occhio facendo se può fare ho buttato il monitor fuori si vedeva la grafica di iolanda porca miseria tutti i flash su tuo sullo sfondo se vedeva tutta questa cosa stroboscopica ma senti pensati che ma non è perché quell'altro gioco a caso scoperto non mi ricordo neanche come cavolo si chiama quello con le carte quello fatto tipo sparaduco e la ma è la mappa spaziale sì sì con le cose strane stranissimo quel gioco no no ai cita man mamma mia cita man ho provato a giocarlo poi veramente non è resistito no perché ero curioso l'ho caricato al volo ma è veramente mamma mia dai aria ultimo tentativo vedi però tecnici a bro il primo e il secondo allora primo il primo il secondo non ho visto ho visto il primo ho fatto pure il secondo oggi sì ho fatto tutte e due sì ovviamente no io sono il primo il grande successo del primo hanno deciso di fare il secondo ci sta cosa buona e giusta lezione e poi ucciso pure il tapiroli che poi quel gioco non lo puoi neanche completare pensa che non è neanche finito ma in ademo no 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 non lo hanno mai completato però hanno deciso di buttarlo nella passatura nella cassetta la nella cartuccia ammonezza nell'indifferenziata l'anno buttazione attenzione ecco guardato ricana guarda come cavia tempo attenzione attenzione ma che bellezza mamma mia no niente da di ma se torni indietro ricambia un'altra volta tornare o già no era là no che schifo era la fa torna indietro nel tempo pure al tocco per condor l'abbiamo scelto senti attenzione va a parlare con uno neano il gioco per condorone condorone è difficile perché non c'è una cosa che lui odia non c'è nel senso lui lui gioca più o meno tutto quindi non c'è un qualcosa che diceva beh ok fare uno sparacchino ma io fanno domani no no fai sempre su super nintendo darius twin mamma mia devo far fare dodo un pagico sapendo che c'è tipo un secondo di lag sei proprio malvagio e vabbè ma guarda ci gioco pure ambè no però aspetta è vero c'è ragione o rt 3 si si proviamo ci vediamo vediamo un po' effettivamente diventa un po difficile ma perché c'è sto lag te non ho capito perché sta in australia che cazzo vuol dire e che ne so per l'unica spiegazione è quella è più lontano quindi ci mettete più o ma solo solo qui comunque siamo arrivati in questo livello mi però ci sono i condori adesso che ci penso però esatto sì a quelli sui lupi per auguri andrei the sims good grande che arriva per grazie mille ciao gary ma è qui che c'è stava musica bellissima del dell'arco acqua mamma mia riusciamo ad arrivare devi parlare con l'uso brucia famosa sì sì certo dai prova c'è dai dai fa ma è bellissimo vale veramente la pena se vale tratta con segreto grande è facile questo ho capito l'andato era difficile facile facile sì come disse cicciolina tu devi rimbalzarsi una gomma che si muove pensa quanto è facile a posto grande sei signore i serpetti sono bellissimi no pure stavone guarda stavone quanto bello un pesce un pesce mamma mia manzo belli a cibito a cibito a cibito a cibito 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 mamma mia passa sotto incredibile passa sotto incredibile vita aryn scambi è gioco del collo grido e con un nando carbonio parola famisa operazione aggiuncie acqua vado i pesci mi fanno male no sì 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 pirana squali polpi 군AH sankawa l kalau chapter quello che piacerebbe esatto tutto quanto quello che mangio io c'è qualcosa dove prendere come aiutante qui pesce pesce spada a questo mi sa che c'era sono esattamente no è difficile sott'acqua controllarlo porca miseria per ora questa è la musica che vuoi sentire ma dovresti andare più alti perché poi diventa veramente impressionante cioè sì questa è la intro della musica diventa veramente bella pensa che sui youtube trovi del degli audio che durano tipo 3 4 ore con sta musica messa in loop e ci sta scritto sì sì relax music stadini sleeping è fighissima bella rilassata cifra riprendi il pesce praticamente col bello che è pulsantazione esattamente dai tipo la spadata esatto comunque se ti avvicini agli pesci ai nemici di punta no questi da questi non li puoi uccidere solo i pesci squali insomma quelle robe lì te li uccide da soli ci dà ok basta che ti avvicini ci è segnato la a quella nato di a quella nato di albano piranhas e mo ci stanno pure i piranhas aspetta livello davanti allo squalo è stupendo c'è una faccia che è bellissima ma questo pesce spada a sinistra c'è un'altra stanza segreta sotto a sinistra senti che la volante bello che lezione no poi riprendere aspetta per riprendere lo puoi riprendere dato eccolo indietro che stanno andando in coppia però no per un millimetro e perché non lo riprende e scendi scendi sotto c'è di sotto tutto sotto che c'era un barile mi sembra indietro non c'era un barile coana l'hai già preso ha già preso c'è stava un altro un altro pesciotto dentro no c'era barile quello di tk che ti danno quando per un aggio stava ancora più su e non l'aveva preso quello secondo me me ne davano altri sì sì ogni tot te li caga a destra no ma ora torna torna aspetta aspetta eccolo vieni qua vieni qua io mi ammazzo non lo sapevo lo sapevo lo sapevo lo sapevo mannaggia no dall'inizio no no da metà livello qui riprendi subito il pescione sotto anch'io da colli questo è piccoletto ok squalib guardate bene lo squalo squale squale stavolta vado su squalo a vedi vedi però vabbè gli hai lisciato la o adesso che il codice fiscale a questo spara e perle deve evitare ci siamo quasi ecco la cura ex aito na perché siamo al ultimo livello e poi c'è il boss da che parte vado tu testa coccodrillo coccodrillo shop 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 chi è fatta brunzo è fatta a brunzo è a fini a questo ok occhio a dimmete dritto mannaggia a brunzo è infatti sta all'inizio che te frega la speranza delle tue parole beh sì e speranza di scobar bello però stai assalta un sacco di roba e che cazzo te frega vogliamo vedere il bosso no esatto così intraprendente esatto così dai a qui te voglio invece guarda come ha capito subito bravo 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 vai bella bra ok metà livello l'abbiamo fatto riechiera ma come un treno e ragazza sì 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 ha preso ha preso confidenza con il mezzo mamma mia che pelo no ho capito no l'ho detto così per di nessuno alex tranquillo siamo 175 mila anni in quattro quindi esatto mamma mia stiamo entrando nella fase cavalieri templari ormai poca miseria ma poi è stata di mezzo da sotto ok ok ho visto ho visto ci sono no guarda che sta giocando bene scusa 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 mamma mia sul sta giocando bene il turricano è morto niente andato porca noia non mi neanche visto la morte la veramente scusa bruno non parlo più e cala un silenzio graciale porca miseria non so come hai fatto a uccidere ma c'era i fan la vado tutto 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 io lo ma non è in modo che siamo tornati al punto di prima allora adesso le acqua la prosto no sito ma che botta di culo 2 niente fondo e la maledetta ma dai sto lag mettetevi comodi eccoci no maledettate ok mamma mia lo stai a sottovalutare ciao dei biker ciao dei biker ciao dei biker ecco la dinamica di platform con i barili che hanno inserito è fighissima è divertentissima in realtà poi quando impari è tosta ma è proprio figa è stimolante allora l'avevo fatto cos'è dai non scivolare occhio te colpisce no mamma mia che culo fai le cose con calma non cuore salvo grande addirittura salvo adesso si sta annoiando no 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 che così non rifai tutta sta parte qui se muori ti fa riparire dall'inizio dei barili però prima sono riuscito a passare un molto male sì ma prima c'è avuto un culo clamoroso perché hai beccato un barile sul fondo io non giocherei troppo sulla fortuna bravo bravo attenzione mamma mia però non stai pazienza di eh eh ma in realtà il trucco no salvo 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 è solo il terzo tentativo eh ma perché non ho la testa è giusta la testa perché accende un po' no no ci siamo eh era solo il terzo tentativo uno stato profetico ok e stavolta non c'entro niente io eh tu stavo zitto eh esatto eh va bene bene lo stesso dopo c'è più avanti una cosa similare ma addirittura c'è il barile da cui tu spari che ruota anche su se stesso da 360 gradi quindi devi beccare proprio il momento giusto da capire una fiazza del culo con l'osso pure siamo al boss boss li devi saltare in testa per cinque volte mi pare o tre non mi ricordo non qua no qui vai per saltare che cazzo ne prego esatto cosa dovevo fare qua non dovevo fare niente come faccio a scena il salvataggio quindi vado so e adesso può andare al deposito delle bananone nel bello fuggi ogni volta salta più in lungo per venirti addosso facciamo la clip sulla post file più breve della storia ma è infatti è molto più difficile arrivarci al boss che sconfiggio si è stimato quasi tutti i vostri così non sono niente di speciale insomma ah ma qui tu dici dentro a sto gioco in generale si si considera questo gioco qui ah ok poi le post file di mario tre colpi more si si però non è allora benissimo che bella fai di fare a scegli o ti fai all'effetto della luce regge blu bellissima che figata volete fare a sì sì air type 3 ma super nintendo si è preso super interno oppure li fai fare darius twin scegli oppure meglio sceglie alex oppure meglio ancora guarda ti fai col turicano giocati insieme ti fai pop and twin rainbow bell quello che va bene va bene dai sì vai vai condo schiacci aspetta che devo attaccare il pad perché stavo con l'archedo stico che palle questa cosa che bisogna staccare riattacca ma non si può dai andrea lo potevo giocare anche peggio assolutamente sì 35 40 minuti sei andato per vai duri in tiro ho premuto premuto io condor io pure sì sì ho premuto già non fa tutto sveto grazie grazie degli auguri allora buonanotte vai marchietto up left dove rig b a y x start select l r mo up left up right down right down left no l'ultima visti porca cazzozza l'ultima vabbè vai condor ormai potremmo fare un minigame soltanto su ste cose del settaggio del pad del super l'interno esatto ci fanno un torneino x start up l'ultima benissimo ok ah tra l'altro andrea ho il la possibilità a casa di giocare allora chi come fa pop and twimby rainbow bell hop eccolo qua bello e il il darius quello che hai giocato tu eh pregente da dario boss boss sì esatto che viene emulato dal tecno parrot ah me lo so messo sul pc e ci gioco molto però non riesce a riprodurre l'effetto no no ovviamente nel cabinato dove tu stai seduto è uno schermo unico ma so una postazione da tre player 2 player 2 sotto al culo c'hai un subwoofer sì cioè mamma mia sei conferente immerso bello 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 immersivo da paura solo che esci stupido dopo dieci minuti che giochi perché ti muovi te sì uno è sotto uno è sotto oh perfetto ok quello quello di sotto perché io so quello sopra dai cazzo codar 7 vabbè io mi prendo quella rosa vai devi sempre forza quello sotto siamo male codar io so quello tutto rosa hai cipendata fatto chi è allora aspetta aspetta dunque se tieni premuto il salto e poi gli dai la direzione fa sto volo qua vuoi anche caricare il pugno poi carica il pugno ok ah però vedi sta cosa che me ricordavo questo questo l'avevamo già provato a giocare in due c'è il problema che bisogna sta sempre uno vicino all'altro perché altrimenti screen no benissimo allora preparate i calendari esatto e ci chiede ne comunque primo nemico no vedi 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 allora non è possibile assorto e imparare a giocarlo dove volevo andare andiamo qua sopra no nessun problema ma c'è da vedere bellissimo comunque no molto bello è però va da solo c'è a un certo punto via per parte paratangente in un certo punto è aspetta questo non si rompe questo che come no basta convincere più a tutto più a tutto c'è una fattiva io me l'ho presa prima vai grazie arrivederci ho presa prima che pazzesero aspetta e scendo vai stai scureggiando che cazzo ecco qua finalmente ma non perdi comunque energia no 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 assolutamente no però non ci capisci più niente perché io vorrei schermo no certo però fa diciamo una specie di reset poi ti fa apparire di nuovo come la stessa cosa accadeva sul sonic 2 io sono morto ma come caspito fatto a morire e non puoi tornare più perché no 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 pensavo guarda che sta a fare tram 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 ah ok quindi basta che c'evo uno ok comunque molto sonic è come come genere del gioco è un pad in realtà il coso la postazione del 4 tassi su adesso e la croce direzionale a sinistra nel dottor willy di wish o qua ecco la giacquore guarda curi è una figata quando fa ste cose insomma hai preso un mini te ah 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 Pompe potenzialmente mi sa che sono come tipo la campanina bianca l'open board quello di final fight guarda che giro l'altra sera gold final fight gold quello si può giocare fino a 4 contemporaneamente ma bellissimo eh si molto,muccio,muccio gusto ma nemmeno avevo fatto tipo l'open board c'è di ken? no,avevo fatto quello il mugan,c'è ken vero? il mugan,sì poi è pure figo e che cazzo non si spacca più non si rompe questo non si rompe cambia le regole a piacimento io c'ho delle io c'ho dei cosi che mi seguono si perchè hai preso le campane non mi ricordo di che colore campanellib dovete andare a sinistra eh dai allora saltamode qua saltamode qua esatto si vai 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 continuo che ah beh tanto arriverò lì in qualche modo non arrivi ecco qua bene cioè siete tornati allo start all'inizio di bello ok no abbiamo cominciato adesso no no abbiamo finito il livello abbiamo cominciato vado a ritornare giù siete venuti da via adesso porca la parola sai che cazzo che vogliono le fattine eccomi qua sono arrivato detesta guarda ho visto segreto no assolutamente no meno male che lo sapevi no non l'ho scoperto lo sapevo partecipato alla realizzazione del gioco ah vedi però hai capito non posso svelarvi tutti i segreti così altrimenti non c'è più non c'è più gusto a conoscerti no esatto ragazzi sono arrivati a dormire grazie per la serata domani ciao dark hall buonanotte a te buonanotte 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 di salire là sopra e grazie ancora ok vai eh no un'ora e un quarto per salire ricadi subito che cazzo però ecco 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 dai che ci ricaschi di nuovo oh cucane ormai si spera solo della disgrazione guardate andato guarda non mi vedo più io ma dove sto io già sto i eschi eccomi qua porca sozza che casino è bello eh bisogna imparare a giocarci così senza sapere in due è troppo cacerone è meglio in uno ma magari se lo sai giocare invece è una figata mondiale chi è caduto Harry ciao bella ciao allora vogliamo fare questo gold si eh però non c'è l'ultimo ma che eh allora aspetta mi sa che manco io ce l'ho l'ultimo però mi sa che abbiamo la stessa versione fammi vedere ma non ce l'hai proprio oppure c'hai l'ultima versione allora aspetta eh se non ce l'hai proprio allora aspetta è final fight gold allora no dunque allora final fight no super final fight gold plus 3.0 21 settembre 2021 questo è l'ultimo che è uscito almeno credo allora dove si scarica no non ce l'ho aspetta no sto a cercare di capire da dove si scarica download allora no permission to download ma che caspita vuoi qui mi è da 1 però non so se è l'ultima versione vabbè io intanto me lo piglio vai 37 mega no non è possibile non è questo no non può essere 37 mega mi pare che era tipo un giga no questo ultimo aggiornamento nel 2017 non mi sembra lui questo 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 qua è un giga e mezzo dovrebbe essere questo final fight in cadlex no link cati allora è un po final fight lns ultimate descalga 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 ok 1,17 giga vediamo un po se è questo no non è questo perché final fight lns ultimate v 0.4 qui non è manco questo non lo so qual è quello che avevo trovato prima però non me lo fa scaricare mi dice unable to download allora lo caspio stam vabbè potremmo pure provare questo qua che ce frega comunque è figo o no niente ma per questo qua quali intendi questo che sto scaricare adesso che è l'uno il 0.4 però è il final fight lns ultimate però non so che tipo di aspetta che intanto io lo mando perché allora telegram ok ora io lo sto a mandare allora te lo sto a mandare su telegram però sono un giga e due allora io nel frattempo visto che è notte tarda e possiamo anche volendo diciamo siamo nella nella befana io vi vorrei proporre di cantare insieme a me una piccola filastrocca ben augurante per la befana ci state? sì allora ripetete con me ripetete con me la befana viene di notte la befana oh dai la befana viene di notte come fanno le mi come fanno le mi non no bisogna dirlo perché se no fa effetto allora la befana viene di notte come fanno le mi notte oh perfetto allora porta i doni ai più piccini e ai più grandi fai i pom i pom i pom i pomodorini i pomodorini va bene c'è un remaggio nel castello con un metro di pi i pomodorini no c'è un remaggio nel castello aspetta l'errore pini la befana di brighello esatto lo dice matando esatto matando quante ne sai matando e poi c'è la befana sopra quello va gridando spingi bello se quest'anno vuoi trombare questa se quest'anno questa filastrocca devi dare boh devi dare ma che forti boh ma non lo so niente vabbè finisce così basta arrivederci gniotte esatto pomodorini oh c'è stava scritto qui su internet dice questa qua è una filastrocca per la befana il buon auspicio che cacchio volete piatevela con quelli che hanno scritto sta roba meglio che c'entro ma vai pigliate sempre con me io non c'entro niente e basta gniotte esatto è colpa dell'emulatore è colpa dell'emulatore sicuramente sì g no ma che te dai errore allora e ancora qui te lo sto uploadando uploadando grande briga errore errore non è possibile te lo sto ancora a mandare non è finito il download credo che te dai errore non è finito aspetta sì 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 allora final fight lns ultimate ecco adesso lo puoi scaricare tu ok già un lode esatto chi è però io nel frattempo vado a fare un po' di pipì pish pish opla mamma mia moridor non v'è andato opla esatto cambia canale un truffaldino oh is esatto ma che madonna stai fa amico capito sto scaricando un gigan un gigan di roba che si parla va meno velocemente qui si arriva all'argomento allora l u l vai metà non male metà metà vedo se non funziona adesso pensa se fa la fine del panettone di andrea esatto esatto allora qui adesso chiamati qui è tutto magna magna è tutto magna magna è tutto magna magna riechielo aiaia aiaia allora sì volete provare un gioco veramente schifoso oddio mio tipo sorpresa della serata aspetta ci siamo dragon bow b o w l sì l'abbiamo già giocato porca miseria dragon brawl no no dragon brawl b o w l ah di bull madonna ma che caspita è una merda sì ecco non c'ho dubbi c'hai goku che praticamente ha gli effetti sonori di chan li oh sì ma perché l'avevo fatto io il live mi sarebbe giocato che culo eh direi te madonna santa ma che dai allora scoperto per caso tra l'altro dai io affa ma sta scaricando sì 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 ok l'importante è questo 7 niente bloccato ah no eccolo allora ripartito vai siamo questi sui server di telegram però boni vai 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 paolino quanto manca è fatto oh ecco ricorda che lo devi condividere su parsec perché sei da un tante parte allora ok esatto contro la ricerca della merda perduta allora brighello brighello grazie delinca ho visti che ok aspetta a ringraziarmi brighello eccala provola poi eccala allora allora dai regia ah eccolo allora brighe vieni su su parsec che sozzo è cascato raga prima o poi doveva succedere chi è che fa una cosa che mi serve è caduta non va la recupera ma io quasi quasi vado a fare un caffè bravo grande ne fai uno pure per me al vetro grazie benissimo subito subito grazie grazie a voler lente come piaceste giusto bravo esatto est grande robolle se c'è sta pure un po di cremetta ancora meglio ma se non c'è va bene la produciamo è buona crema di caffè o buonissimo allora schiacciate aiuto turri allora io ho premuto però non so se si è sentito l'unzo condor e condorone stoffa al caffè a no e non ci sono ci sono lì che vanno rufight lms a bello proprio bello allora piaccia marchio a me mica a me mica mi convince in granchio sai attenzione è successo qualcosa allora option se tu devi fa tu qua tastiera controllo per te esatto allora allora control player 1 allora up dovn lepd rigd attack jump parry move list start e screenshot niente ok ok vai gondor up up down left right attack jump very move list start ciao all'altro blu grande mazzo i stati a tutti bob ob z move star eeeh brig big nooo si grande start new game allora arcade capcom all starts no arcade premete start rega easy beginner mode normal mode hard crap mode ultra hard che famo normal sii normal bello aspetta chi è il player 2 che ancora non ha premuto io 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 o grande perfetto facciamo metà da una parte metà dall'altra eeeh mazzale eeeh eeeh che bel choose palette pure addirittura scusate le devi sbloccare sii non so che pm eeeh maki io prendo tiè serviamo maki tutta quanta bluetto vai però questo è open board bellissimo mazza ha fatto bene per il momento si ahm vedi che roba raga dai chi è che sta se no non sono io io ho messo su select e io pure che se potevamo menare la prima non credo no meglio no 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 oh ma dai puoi anche fare le mosse come nel gioco ma guarda che figo vero andiamo raga è un po' mappazzone è un po' mappazzone eh guardate zang e vabbè è il novembore sì sì certo come tutti gli open board allora chi è zang io io ti saluto arrivederci comunque visto le mosse come street fighter ero attivo e via duke eccetera quindi ah duke ma guarda che bello vero figata comunque no ma gioca in 4 è veramente spettacolare raga ma è stato io sono sempre disegno stato io 2 3 dovevo farlo dovevo farlo anch'io dai questo stato io per solidarietà the slam vai ma che è un'altra volta lo stesso ma 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 la forza dei nemici cambia in base al numero di delle persone che giocano o è sempre uguale? no è sempre uguale ma sta merda nooo chi che me l'ha rubata? again stai a fa' aria stai a fa' corriente eh sì dai no ma guarda che è molto figo eh è molto figo raga aia è un po' incacerato eh effettivamente però spettacolo hai visto? ho fatto una super si si senza piombo esatto unleashed non mi piace sta cosa che quando fai una mossa particolarmente forte o comunque aumenti di livello ti si rallenta gioco a tutti no? perché spezza un po' troppo il coso però è figo mamma mia veramente figo bello spero andrea andrea non lo sento convinto però no vabbè no beh io non è che sono un grandissimo amante di open board eh perché lo vedi come una cozaglia di roba è sempre un altro gioco e poi è figo per la serie dei giochi con dei personaggi che sono magari non avresti però questi sono gli sprite rippati dalle versioni super nintendo ma si si per assurdo trovo più accattivanti i moogan c'è un po più di originalità a volte però lì c'è su picchiaduro uno contro uno almeno qua c'è stata una storia se ti poi inventa una storia la puoi fa è che in realtà si no fidate c'è 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 king of dragons king of dragons fatto con l'open board c'è una profondità è lo stesso gioco di quello arcade con gli stessi sprite rippati ovviamente però c'è una profondità assurda perché tu poi decide dove andrà devi raccogli oggetti fai crescere personaggi infatti bene anche benissimo che sono anche fighi ci sta probabilmente in generale non è che entusiasmi più di tanto nel picchiaduro a scorrimento si dai o sì un po di più come questa la fede poi è ripetitivo non è sempre quello è vabbè però il fatto che ti mettano anche le mosse di per esempio di street fighter lo rende un po più vario un po più di narrava ci va che rimane anche vero che se non ci avesse avuto c'è se il roster delle mosse non fosse stato quello del giocatore originale che cazzo l'hai messo a fare affinata che tu giochi con le mosse di ken di street fighter lo di zanja fra fire on fire nico la scusa solo codi a tutti ma visto a questo che caspia del bonus altro che polletto rinforzati che stavano nella voce maial arrosto sanno maiale intero api scia api scia api vai 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 questo è damno parapaparà anche i palleggi benissimo grande ma palleggiamo che meraviglia ecco sti sti fermi immagini che fanno non mi piacciono un granché se te devo dire aio mazza questo vorrei riuscire a fargliela super ma non so se c'ho se ce l'ho carica esatto no ah quell'altro che sono stava a trasportanza anghi hai visto ha preso per collo sono stava a porta a giro bellissima eccolo qua che vuole che vuole ma cosicato sprecata eccolo ma son vite infinite no oddio non credo ah no no che ho visto ora la mia ultima si si micchia che combo spettacolare si ma infatti guarda è veramente fatto bene eh ma c'è tua ok oh bello oh ma siamo rimasti solo io e te ah io ho fatto la fatality pure hai visto si finish io sono rimasta così che vuol dire wow io sono rimasta così va bene benissimo inям ah potremmo quello e scegliere la via figo ok dai ee vici andiamo giù dai mettiamo la difficoltà bonus stage vediamo se riusciamo a riuscire oh ma che è successo bruce niente non succede niente mi dà game over ma penso che sia perché siete su livelli bonus magari dopo può darsi no non credo secondo me non ti fa proprio rientrare più dai che ce l'abbiamo fatta vai poli station grande console ma pure le musiche sono belle e magari si dai vedi se fa entrare no dice game over non c'è prestato niente sembra che hanno finito i crediti no però così il level design da dove viene street fighter 3 questo qua eh scusa si street fighter 3 lo scrive prima che inizia il livello lo scrive ah non ti fa tocato ahi oh ahi oh ahi oh Oh no Are you serious? Yes Ah ma c'è un numero di crediti limitato Si penso di beat Abbiamo finito ovviamente No i crediti erano dieci però regà Cioè a meno che non avete consumato tutti quanti i crediti giocando I crediti erano dieci a testa Eh vabbè da volta No ma secondo me col fatto che sono caduti prima Ah ok Non li fai entrare per quel motivo Eh si sono fuori dalla partita Credo eh Sì sì Vabbè qui sono un po' sproporzionati Ti vedi quelli che stanno sullo sfondo quanto sono troppo grossi Questo è un errore Però vabbè Vietato entrare Ah racconta come è affianato Mi è stato entrare Ok e io ho finito pure Arrivederci Ah no quindi niente funziona proprio così Sì 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 proprio così Tu magari ci sarà Tutti fai rientrare No non mi fai rientrare Ma magari ci sarà qualcosa nelle opzioni che Eh ma non so perché Mi pare che si è sempre un altro limitato Di crediti di fare Sì Open board su tutti quanti limitati Così ho raccolto una cacca Hai racconto un altro Sì è vero Pensavo ci fosse una Modalità Aggiuntiva Ah questo è Final Fight 3 ho visto Di livello Ah vedi Zarrotino dice Dovete andare su Extra Poi C E mettere crediti infiniti Ah vedi Ecco E allora aspetta Usciamo Allora magari dai La prima era dei bambini E ora facciamo quella serie Facciamo quella serie Allora Options System System options Cheat Cheat Ok No No Eh la la forse No non me lo fa fa Cheat non me ci fa entra Ed the bug Sono Performance Performance Position Features Collision attack Collision body range No File loading Back C'era Max Torna indietro Disabilitato da modulo Eh Max Ah no ok Allora Ma sai C'è un qualche opzione Nell'open board Nel programma O No sto a capito Stasto extra Che dice lui No no Io sto dicendo Siccome c'è scritto Disabilitato da modulo E non Cioè non conosco Dell'open board Come funziona Ma ne manco io Non te so di Sinceramente Forse è un qualcosa Che si sblocca Quando tu finisci i giochi Perché Ah Molti open board Quando tu finisci Una modalità Ti sblocca Delle Delle altre Mobilità Sì 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 Ok Ciao Lone Wolf Buonanotte Ciao Lone Wolf Buonanotte a te Ciao Lone Wolf Start game Vediamo se Charakter Heroes Arcade Vedi informazioni giù Che ci sono informazioni Su Easy E Nomo Eccetera eccetera E pensi se magari ci Lo start in live C'è No Continuarlo Vedi Quindi Due Due vite extra 200.000 500.000 Ok Non ci sono Non ci sono vite Guarda Easy E 10 Crediti Per 100.000 Prendi una vita E 10 crediti Per player Alla famo questo Ok Dai Ci siete voi Premete start Io sì 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 Ci sono Ok perfetto Tutte le mani Ok allora Ritorniamo La chiesa Siamo presa prima E cambiamo Tutti i rischi Sono da sbloccare In realtà Sì sì Ma questo poi Li sblocchi Mano a mano Che tu finisci Il gioco Noi la prendiamo Di Brutalità Assoluta Quindi Io mi prendo Cianli Anderò Con Bison Dai Nera Non ce l'abbiamo Cianli Sì Eccola qua Aspetta Ok Non è proprio Nera Ma vabbè Ma do Parla in inglese No però Questo non me lo dovevano fa Guarda che figata Cioè però C'è un approccio Veramente figo Sto gioco Sì Cioè ti Ti fomenta Grazie melone Ciao melone E cuokan E cuokan E cuokan Michael Crusher Peccato che non posso fare i mille calci Mannaggia Sarebbe stato fighissimo No però Prova a fare con l'altro tasco La stessa mossa Come fai sotto avanti Ma col salto Ah ecco L'esisco La vedi Sì sì Ma do Che figata Prova a stringergli la mano Ma che non l'ho detto ancora stasera Ah ma Bison fa parte dei nostri Ma che cazzo è Che succede Eh Megalaguro Bison è bruciato Sì sono io Bison D'ambe Mike Bison Esatto Vega Temamolo Vega Bison dollaro Gslum C'è chi è chiamato C'è chi è chiamato C'è chi è chiamato No i mille calci sono troppo fighi Rega C'è ti dà proprio soddisfazione No ma dai pure il volo Li posso fa Ma loro che si infiammano Appena li prendo a pugni Una cosa spettacolare Ah è veramente figo Veramente bello Ma si hanno fatto un lavorone Sì Nella super Che c'ho io O con numeri 1 nel momio Quindi nemmeno che gli amostri Provo le cose mostri Bello Wow Cazzo Attenzione ci panno no Perché? C'ho fatto E niente Non so capire Dove hai mettere il tag della nudità su Can Lee Quando hai fatto la mossa Ah ok C'è Poison Sì però mannaggia condurone Se hai preso Bison me li ha demenate No ma dai dai Sì perché penso che sei nemico Capito? E' una tregua dai Una tregua Dai Quello è Poison Non lo scorda Eh sì Ecco Sappiamo cos'è Poison no? SONIC BOOM Mi dico è violenza SONIC BOOM SONIC BOOM SONIC BOOM Sì perché anche i suori dei colpi E' tutto ripreso Sì 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 Però è tutto quanto messo bene E' ovvio che se tu pensi Che comunque sia E' un collage E' un fran che sta in questo Ovviamente un pochettino Te fa Non ce devi pensare a sta cosa Cioè lo devi prendere come gioco Così No però avendo ripreso tutti I suoni e tutto E' molto più immersivo Piuttosto che se avessero preso solo I sprites Sì 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 Assolutamente Vero Vede inevitabilmente Tanto ti associo ormai A quei suoni lì Per cui Madonna Ma che bello Cioè che cazzo è Oh Che face Quanto si sta divertendo Surrican Sì sì Guarda A me fanno morire Sti giochi A me fanno un pazzie A me picchio duro A scorrimento Sempre vi è giudato O se è proprio divertente Sì sì Poi vedi che livellano pure Figa sta cosa che livelli Che poi non so che cosa cambia All'atto pratico Però teoricamente Dovresti far più male coi colpi Perché i colpi non cambiano C'è la vita credo Ah ok Ok Infatti quando livelli Se stai morendo Tiri da tutta la vita Ah vedi Il maialone All'ho rubata io qualcuno Porco Ok Ecco qua Cominciamo subito con E vai a fare In culo Chi è Grande Pallegge Così qua Devo aspettare Mamma mia Che figata Sta cosa Cioè io praticamente Prendo l'avversario Te lo lancio addosso E tu mentre lo colpisci Lo rimbalzi Esatto Spettacolo Bellissimo E poi magari quando metti Visto c'è la lista delle mosse Magari ci sono Sì sarebbe da leggerla però Che non abbiamo ancora scoperto Quindi Le scopriamo Le scopriamo Oh Cacci tua Ecco la fun Attenzione Attenzione Forse dico Di lettura veloce Cioè Tipo che hai trovato No Non ero Era Vega Chi è che sta usando Vega Chi è Brighello forse Nonna Certe volte però C'è stata una confusione Chi è stato Ammazzarlo Non lo so Ovviamente Sono stato io Vedi Grande Finish Ma che potenza Ok vediamo Special moves Ah ok Vedi Sotto sopra Sotto sopra Sinistra Destra Ok Come fai Come fai a fare Ste cose così 5 mosse Speriamo Ora faccio la prova No è figo Regà è veramente figo Però Vero male Sono tutte uguali Le mosse Come ho notato Dove andiamo Andiamo a Subway Prima siamo andati giù Ma dobbiamo andare A dormire Una certa No no Aspetta A mezzogiorno Dai Ancora Andiamo a mangiare Magari Non mi spacca Sto di cucina Sto di cucina Sto di cucina Sto di cucina Che cazzo E me lo scoppiamo Sto Ma forse Non bisogna distruggerla No ma Eccola Eccola Forse dovevamo Forse dovevamo Lavarla No ma vedi Guarda C'è l'energia Multiplata C'è l'energia ultima Da qua non la colpisco L'abbiamo fatta Si Non sapremo mai Credo di sì Esatto Tanti che bella sta musica Ma tu dite che è Bellissimo Vedi come è utile Quella manuale Delle giovani marmotte Ha visto mi ha fatto scoprire questa cosa spettacolare E' porco Come se incazza Giulia E' una cosa incredibile Ma bello grande Bello vero Te giuro E poi gioca in quattro Capito C'è sta cosa che giochi in quattro E' una cosa che Me manda i matti Praticamente questo era Un sogno Quando Sì sì Quando crescevamo Bello E sono morto L'unica cosa è che Di open bar Sono sempre stati abbastanza sempliciotti In realtà Cioè nel senso che è difficile Trovare un open bar Che è veramente Impegnativo Difficile Sagatto Si è preso sagatto Ecco qua Sì sì Sagatto E adesso si va di Sagatto Di tiger uppercut A tutta forza Guarda qua Ecco qua Yeah Tiger uppercut Tiger uppercut Vietate Subway Ryutem Retro 80 Ma sono musiche prese da Boh Queste Ryutem C'è una cacca Prendete la cacca per terra Chi ha preso Sagail Ha preso Sagail Ma ti dà punti Oppure Non lo so Fa scapparvi ai nemici Fa scapparvi ai nemici Ma questo è un remix Questo è un remix Il livello di Ken Giusto? Sì 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 Ma io ho letto Ryu però Questo? Allora Infatti è quello di Ryu Beh? Sì 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 Perché quello di Ken faceva No tolbi Ecco Sì sì Mettere lo start dei personaggi Più avanti Più avanzato Però non tutti lo fanno Che? Ha il boss Ciao Christian Buona epifania Ciao Christian Buona befana Ciao Chris Ciao Chris Esatto No Porca zozza Ma che cazzo Spacca tutto Nooo Rusicato Non sto riuscito a fargliela Vai grande Oh Dai posso cambiare Vabbè va Vabbè va Ahie Guarda gli stanno Grande Grande Cavolo 17 colpi Eppure guarda quanto è resistente Eh sì Guardalo Oh ma riammazzato un'altra volta Sto pull Ok dai rifacciamolo di nuovo dai Dai È grande Arrivederci E grazie Che figo Magari anche meno però Dura troppo sta scena finale Vabbè Ragazzi Io mi sa che staccherei Perché sulle due e mezzo Comincio Mi comincio a calare un po' la palpebra Stanco Stanco Sì Sì Come volete ragazzi Questo volendo possiamo pure riprenderlo domani Perché comunque Rimane il salvataggio Sì Vero Ah bello questa No no ma mi avete fatto scoprire un bel gioco Come Come si chiamava questa versione Oh lns lo vedo lì Ok Benissimo Vado subito A procurarmelo Bello molto bello Molto gustevole Poi sono curioso Deve dire Ci sei di Zurichano domani Sì 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 Ci sto Ci sto Quindi Tutto apposto Basta Io dico stop Al televoto Andiamo a dormire dai Sì andiamo a dormire Direi di sì Di nuovo Andrea Buonanotte a tutti Auguri Auguri Andrea Auguri Buonanotte a tutti Buonanotte 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 Arrivederci Buonanotte Alex Buonanotte Brichello Buonanotte Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao 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 Buonanotte Buonanotte